Buonasera a tutti, benvenuti. Iniziamo con l'appello, grazie. Cornago Lorenzo, Baggi Sofia, Tarchini Glauco, Cornaro Mario, Minetti Santo Giuseppe, Corrado Francesca, Locatelli Nicola, presenti tredici. Bene, iniziamo con la trattazione dei punti all'ordine del giorno. Ricordo, interpellanze, interrogazioni, tutto in coda perché viene trattato il bilancio di previsione. Qualsiasi altra cosa è uguale. Interrogazione, interpellanze, interrogazione, il senso dell'articolo 24 segue la stessa sorte, viene trattato in coda. In coda, va in coda. Lo trattiamo, alla fine, verrà esposto, alla fine. Grazie. In coda agli altri argomenti. Articolo 24,10 del regolamento, nelle adunanze nella quale vengono discussi il bilancio preventivo, il conto consuntivo, il piano di governo del territorio e le sue varianti generali, la trattazione delle interrogazioni, interpellanze, emozioni, è iscritta in coda all'ordine del giorno. Senta, la responsabilità è la mia e l'interpretazione che do al regolamento è questa. Per me sì. Ai sensi dell'interpretazione del regolamento per me è così. Non so cosa voglio dirle. Se vuole la presentazione, la presente e poi vuole una risposta, che senso ha? Abbia pazienza. Consigliere, le ho già risposto. Va bene, non è d'accordo, ma questa è la mia risposta. Va bene. Grazie. Arrivederci. Riprendo con la trattazione del punto numero 1, iscritto all'ordine del giorno. Comunicazione del Sindaco in merito al prelievo del fondo di riserva. Dato atto che i sensi dell'articolo 166,2 del decreto legislativo 267 del 2000 è consentito l'utilizzo da parte dell'organo esecutivo di quota a parte del fondo di riserva, iscritto nel bilancio di previsione, considerato che la normativa di cui sopra prevede che in caso di utilizzo di detto fondo di riserva ne venga data apposita comunicazione all'organo consigliare, considerato che per sopravvenute esigenze istituzionali la Giunta Comunale ha operato il seguente prelievo dal fondo di riserva e fondo di riserva di cassa con deliberazione numero 138 in data 15 dicembre 2020 per Euro 6.000 per l'integrazione delle risorse destinate alle spese per acquisto automezzo per protezione civile e per spese di manutenzione ufficio e vigilanza. Visto l'articolo 166 del decreto legislativo 267 del 2000 prende atto della predetta comunicazione del prelievo dal fondo di riserva e fondo di riserva di cassa. Passiamo al secondo punto all'ordine del giorno, approvazione dei verbali della seduta del 29 novembre 2020. Dichiaro aperta la discussione. Se non ci sono interventi passiamo alle dichiarazioni di voto se ce ne sono e quindi alle votazioni. Chi è favorevole? Contrari? Astenuti? Nessuno. Quindi il Consiglio Comunale approva il punto numero 2 iscritto all'ordine del giorno. Passo alla trattazione del punto numero 3. L'approvazione dell'aggiornamento al piano di emergenza comunale di protezione civile. Allora, si tratta di un adempimento, il Comune di Ponteranica era già dotato di un piano di emergenza comunale di protezione civile che risaliva all'anno 2014. Abbiamo ritenuto di doverlo aggiornare per far fronte non tanto agli scenari di rischio che sono rimasti sostanzialmente i medesimi, quanto per aggiornare dei tre volumi che compongono il piano di protezione civile il cosiddetto tomo giallo, che è quello che riguarda l'anagrafica dei volontari e dei mezzi che compongono il piano di protezione civile. Quindi, avevo preparato delle slide, purtroppo oggi il proiettore ci ha lasciato a piedi. Vado per sommi capi a descrivervi, anche se sono cose che sostanzialmente sono già note, l'organizzazione del nostro gruppo di protezione civile, le cui finalità principue sono la previsione, quindi come l'attività diretta allo studio, alla determinazione delle cause dei vari fenomeni calamitosi, all'identificazione dei rischi e all'identificazione delle zone del territorio e evidentemente la prevenzione invece consiste nel porre in essere delle attività volte ad evitare o a ridurre al minimo la possibilità che si verificano danni conseguenti agli eventi calamitosi. Nella determinazione dell'organigramma della protezione civile, al Sindaco è attribuito l'obbligo di conoscere e riconoscere i rischi presenti sul proprio territorio e di essere punto di riferimento in caso di emergenza all'interno del proprio territorio comunale. La recente legge numero 100 del 2012 ribadisce che il Sindaco è autorità comunale di protezione civile e assume la direzione dei servizi di emergenza che insistono sul territorio del Comune e il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alle popolazioni colpite. Tutta questa attività è compendiata nel piano di emergenza comunale di protezione civile che poi, come vedremo nel proseguo, si compone di tre tomi. Dicevo, il piano di emergenza comunale è lo strumento principale a disposizione del Sindaco per fornire il servizio di protezione civile, allo scopo di ridurre le conseguenze descritte in uno degli scenari di rischio, indicando un modello di intervento fondato sulle risorse umane e strumentali in possesso del Comune che consentono di attivare la risposta locale di protezione civile all'obiettivo di costituire una struttura di coordinamento operativa snella e adattata alle dimensioni del Comune. Si compone essenzialmente di tre tomi, come vi dicevo, il tomo verde, dove vengono individuati i rischi che interessano il territorio comunale e i relativi scenari di rischio, il tomo giallo che compendia tutta l'anagrafica dei volontari e l'organigramma del Comune e un tomo rosso dove vengono invece descritte le procedure per far fronte ai vari scenari di rischio. Per quanto riguarda i rischi compendiati e descritti nel tomo verde e attualmente presenti sul nostro territorio comunale, sono il rischio idraulico-idrogeologico, il rischio viabilistico di trasporto, il rischio di incendio boschivo, il rischio industriale e ovviamente il rischio sismico. Per quanto riguarda il rischio idrogeologico, a sua volta è suddiviso in alluvioni e desondazioni, frane e valanghe, eventi meteorici eccezionali, come può essere ad esempio le ingenti nevicate. Dopodiché, ripeto, c'è il pericolo sismico e il pericolo di incendio boschivo. Passando invece alla cosa che poi è più operativa, è alla presenza, al manifestarsi di uno di questi rischi, ed è stato così ad esempio per la trattazione dell'emergenza Covid, viene costituita l'unità di crisi locale, quindi l'UCL, che rappresenta la struttura minima locale di protezione civile e che deve essere attivata entro 24 ore. La composizione minima dell'UCL è determinata dal sindaco, dal responsabile dell'ufficio tecnico, dal comandante della polizia locale e ovviamente dal responsabile del gruppo di protezione civile, che per quanto riguarda il comune di Ponteranica è rappresentata dal signor Bruno Renica. Di volta in volta poi l'UCL può essere integrata con delle altre figure istituzionali a seconda del tipo di rischio cui si deve far fronte. Per quanto riguarda l'esperienza passata, l'appena trascorsa, quando è stato istituito il COC, quindi il gruppo operativo comunale, l'UCL è stata integrata anche con un rappresentante dei medici del territorio, perché evidentemente serviva avere anche questo tipo di competenza per far fronte all'emergenza Covid all'interno dell'unità di crisi locale. Questa sostanzialmente è la struttura del piano di emergenza comunale di protezione civile. Insieme al gruppo di protezione civile comunale ci siamo dati l'obiettivo, appena le condizioni lo consentiranno, di organizzare un incontro pubblico per spiegare alla popolazione non tanto gli aspetti burocratici, ma i vari scenari di rischio e le relative procedure connesse. Anche perché per i vari scenari di rischio sono state individuate, ad esempio, delle zone di concentrazione dove la popolazione poi deve ritrovarsi nel caso in cui si manifestassero questi scenari e quindi è bene che a queste procedure venga dato il più ampio risalto possibile. Ad esempio, ma poi non voglio tediarvi coi particolari, per quanto riguarda il territorio del Comune di Ponteranica sono state individuate come zone, come aree di emergenza nel caso di determinati tipi di emergenze ovviamente non sismiche, ma tutti gli altri, la scuola secondaria di primo grado Don Milani nella struttura della palestra, la scuola elementare Lotto anche in questo caso nella palestra, il centro sportivo di Via Ottomarzo ed il campo sportivo di Via Foppetta, ripeto, come luoghi di concentrazione nel caso in cui dovessero manifestarsi alcuni scenari di rischio. Al contrario, le aree di attesa di rischio sismico, quindi necessariamente localizzate in spazi aperti, sono state individuate nel Parco Pubblico della Ramera, nel Parco Giochi di Via Matteotti, nel Parco di Via 25 Aprile, nel Parco Pubblico di Via Donizzetti e nel parcheggio del Cimitero di Via 4 Novembre. Questi sono solo alcuni dei dati che vengono compendiati in questi tre tomi, che sono evidentemente a disposizione anche in Comune per la consultazione. Ripeto, nel tomo giallo sono indicate le anagrafiche sia dei volontari che l'organigramma del Comune che la dotazione di mezzi. Nel tomo verde sono descritte gli scenari di rischio, mentre nel tomo rosso, che è quello più operativo, sono descritte le procedure di intervento nel caso di manifestarsi degli scenari di rischio sopra descritti. Concludo con una piccola chiosa, che è questa, che è in parte connessa al primo punto trattato all'ordine del giorno, che è quello relativo al prelievo del fondo di riserva, che come avete appreso, era destinato ad integrare il capitolo per l'acquisto di un mezzo di protezione civile. Ecco, appunto, l'acquisto di questo mezzo va proprio nell'ottica di garantire una maggiore operatività del gruppo negli scenari, anche per operare negli scenari di rischio descritti nel piano di protezione civile comunale. Grazie, dichiaro aperta la discussione. Se non ci sono... Prego, consigliere e assessore Cremaschi. Sì, va bene anche consigliere. No, solo una... Due veloci osservazioni. La prima, a volte magari sottovalutiamo questi... Sono difficili, magari da capire queste metodologie sviluppate in questi ultimi anni che vanno relativi alla prevenzione dei rischi, però ci accorgiamo come il nostro territorio sia fragile quando succedono certi eventi. Io sono stato in Umbria quando c'è stato l'ultimo sisma tre anni fa, quattro anni fa, tre anni e mezzo fa ormai. E in effetti, a parte che sono arrivato giù, ho capito un po' queste strutture, però c'era una disorganizzazione totale e anche una difficoltà a gestire quelli che erano i volontari come eravamo noi per fare determinate verifiche sismiche sugli edifici danneggiati. Quindi, più la struttura funziona, più organizzata sia a livello più alto fino ad arrivare a livello comunale, chiaramente più è facile gestire le emergenze che sono un po' quegli eventi che nessuno riesce a prevedere, ma che si sia una struttura in grado poi nell'emergenza una struttura organizzata è certo che l'emergenza si riesce a gestire meglio evitando rischi anche per la popolazione. Da ultimo vorrei sottolineare anche questo l'ultimo aspetto che ha detto il sindaco, cioè il fatto che siamo riusciti ad acquistare grazie anche a un contributo del GAL perché se non ricordo male il 90% viene finanziato dall'acquisto di quest'auto, dell'auto e della protezione civile viene finanziato col bando GAL era una delle richieste che mi spiace che sia andato via il consigliere Minetti che lui si era dimesso dicendo che questa amministrazione non aveva a cuore la protezione civile perché non acquistava il mezzo di fatto mi sarebbe piaciuto che partecipasse a questa discussione per dare atto che l'amministrazione sia impegnata non solo alla revisione del piano investendo in gente e risorse perché se non ricordo male è costato circa 14.000 euro se non ricordo male più ulteriori risorse circa 32-33.000 euro di cui una parte finanziata col bando GAL per acquistare questo mezzo della protezione civile quindi mi sarebbe piaciuto che a chiusura di un anno visto che mi sembra che si siano proprio dimessi sulla fine dello scorso anno si desse atto anche dell'impegno dell'amministrazione in questo senso non a caso per esempio grazie anche all'avvicinamento di alcuni volontari durante l'emergenza covid ci sono stati due ulteriori ingressi di persone all'interno della protezione civile quindi questo qui per dire che l'amministrazione è a cuore anche questo tema ritenendo importante avere una struttura locale funzionante per poter gestire questa emergenza adesso abbiamo gestito un po' l'emergenza covid magari nel futuro potrebbe succedere qualcos'altro grazie grazie assessore cremaschi ci sono altri interventi passerei quindi alle dichiarazioni di voto se ce ne sono e quindi alla votazione chi è favorevole all'approvazione dell'aggiornamento del piano di emergenza comunale contrari astenuti due per l'immediata esecutività favorevoli unanimità passerei quindi alla trattazione del quarto punto iscritto all'ordine del giorno approvazione della terza modifica al programma triannale 2020 2021 2022 delle opere pubbliche ed elenco annuale 2020 lascio la parola all'assessore cremaschi grazie allora questo aggiornamento prevede di fatto voi sapete che il piano delle opere pubbliche nel piano delle opere pubbliche vanno inserite tutti quegli interventi che hanno quelle opere pubbliche quelle previsioni di opere pubbliche che hanno un importo superiore ai 100.000 euro di fatto noi andiamo ad inserire per il nel 2021 per il 2021 l'opera pubblica relativa alla riqualificazione ed efficientamento dell'impianto sportivo comunale di via 8 marzo è un'opera che ha un importo complessivo di 600.000 euro per 350.000 euro abbiamo partecipato con la richiesta di 350.000 euro a un bando nazionale sport e periferie per l'anno 2020 il resto delle risorse 250.000 euro saranno a carico dell'ente comunale e il piano delle opere pubbliche prevede che siano finanziati con onere di urbanizzazione chiaramente è fondamentale per portare avanti quest'opera ottenere il contributo ministeriale che penso che adesso i tempi sono tutti un po' slittati causa covid ma credo che nella prossima primavera dovrebbe esserci la graduatoria quindi di fatto la modifica ecco va detto anche che è stato il programma è stato aggiornato con la delibera di giunta comunale numero 8 a settembre sono stati rispettati i termini della pubblicazione dal 21 settembre al 20 novembre senza ricevere osservazioni quindi adesso andiamo ad approvare questa terza modifica quindi che ripeto prevede l'inserimento di quest'unica opera la riqualificazione ed efficientamento dell'impianto sportivo comunale di via 8 marzo un'opera che vale 600 mila euro di cui 350 finanziati con contributo ministeriale si arriva e i 250 con risorse dell'ente grazie assessore cremaschi dichiara aperta la discussione se non ci sono interventi passerei a dichiarazione di voto se ce ne sono e quindi alla votazione chi è favorevole all'approvazione della terza modifica al piano triennale delle opere pubbliche unanimità no scusami contrari astenuti consigliere locatelli per l'immediata esecutività favorevoli unanimità grazie quindi il consiglio comunale approva il punto numero 4 all'ordine del giorno a questo punto nell'ordine del giorno che voi avete ricevuto al punto 5 sarebbe prevista l'approvazione del piano economico finanziario Tari anno 2020 in realtà per ordine logico visto che costituisce un atto presupposto dobbiamo invece andare a discutere ed approvare preventivamente quello che è stato integrato col punto numero 15 quindi l'approvazione del regolamento per l'applicazione dell'imposta Tari quindi se non ci sono contrarietà propongo questa modifica dell'ordine del giorno se siamo tutti d'accordo diversamente la votiamo ditemi voi quindi facciamo prima votarla chi è favorevole un'animità grazie quindi dicevo passiamo alla trattazione di quello che voi avete indicato nella convocazione come punto numero 15 che è l'approvazione del regolamento per l'applicazione dell'imposta Tari e anche in questo caso lascio la parola all'assessore cremaschi allora la modifica del regolamento si rende dovuta per due fatti fondamentali il primo che la legge finanziaria dello scorso anno ha abolito quella che era l'imposta unica comunale che era formata da tre imposte Tasi Imu e Tari quindi andavano scorporate e quindi noi avevamo un regolamento della IUC abbiamo già modificato il regolamento dell'Imu e della Tasi e ora l'ultima parte la modifica del regolamento della Tari che diventa un regolamento a sé altra cosa è stata il fatto che a RERA l'autorità di regolazione per le energie reti ed ambiente nel 2019 è emanato una delibera con la quale ha introdotto un metodo tariffario per calcolare gli importi del servizio rifiuti a livello nazionale cioè prima c'era un'altra normativa che diceva come andare a calcolare il piano finanziario economico finanziario del del tributo dovuto per i rifiuti della tassa o tariffa rifiuti a RERA ha deciso di modificare introdurre questo nuovo sistema tariffario e chiaramente quindi noi dobbiamo recepire all'interno del nostro regolamento Tari quella che è la deribola di RERA e quello che è questo metodo tariffario di fatto la Tari recepisce voi lo leggete l'articolo 14 praticamente è stata di modificare cioè le modifiche di fatto sono state due la prima l'ordine degli articoli nel senso che non cominciava con l'articolo 1 prima ma andava a seguire era l'ultimo dei tre dei tre tributi latari quindi l'articolo una volta il regolamento se non ricordo male cominciava dall'articolo 52 mentre adesso essendo un regolamento unico prevede articolo 1 il primo articolo e seguire gli altri la modifica il richiamo ad RERA si trova nell'articolo 14 dove c'è scritto che siccome per legge la TAR deve coprire l'intero costo del ciclo dei rifiuti e qui si dà atto che il piano economico finanziario viene redatto secondo i criteri stabiliti di RERA e si dà anche atto che quello che RERA chiama l'ente territorialmente competente è il comune nel senso RERA individua il gestore del servizio che per noi è la ditta che è in appalto il servizio l'ente territorialmente competente in questo caso è il comune al comma 3 sempre dell'articolo 14 si dice che quindi comma 1 quindi si dà da questo atto e si dice che attualmente noi approviamo il piano economico finanziario 2020 secondo il metodo tarifario previsto da RERA per l'anno 2020 al comma 3 si dice che il piano economico finanziario del 2021 verrà sempre redato secondo le indicazioni di RERA ma che attualmente non sono ancora uscite e che a quanto ha comunicato RERA modificheranno in parte quelle vigenti per il 2020 quindi il piano finanziario del 2021 sarà calcolato con una metodologia leggermente diversa rispetto a quello del 2020 questo qui è il contenuto diciamo dell'articolo 14 che diciamo che è l'articolo un po' più pregnante da ultimo ci sarebbe c'è un errore materiale nel deliberato perché se leggete il deliberato c'è scritto il consiglio comunale delibera di approvare con effetto dal primo gennaio 2020 l'allegato regolamento per l'applicazione dell'imposta Tasi invece da modificare con l'imposta Tari quindi un errore di battitura probabilmente oppure un copia e incolla quindi magari procediamo facciamo l'emendamento l'emendamento che propongo è di modificare il deliberato sostituendo Tasi con Tari e poi andremo invece a dichiaro aperta la discussione sull'emendamento così formulato dall'assessore Cremaschi se ci sono dichiarazioni di voto ripeto l'emendamento prego di dicevo dichiaro aperta la discussione sull'emendamento e quindi lo metto in votazione chi è favorevole all'approvazione dell'emendamento così come è formulato unanimità rientriamo se sessore non hai altro da aggiungere nell'ambito della discussione generale sui termini del regolamento e quindi se ci sono interventi prego passerei quindi alle dichiarazioni di voto se ce ne sono e quindi alla votazione del regolamento per l'applicazione dell'imposta Tari chi è favorevole contrari astenuti due consiglieri di minoranza per l'immediata esecutività favorevoli unanimità grazie il consiglio comunale approva il regolamento per l'applicazione dell'imposta Tari ritorniamo quindi a seguire l'ordine della convocazione e andiamo a trattare l'approvazione del piano economico finanziario Tari anno 2020 prego assessore Cremaschi ecco che arriviamo a quello che è adesso andiamo a provare il piano tariffa il piano economico finanziario 2020 secondo il metodo tariffario di Arera voi vi ricordate forse che a luglio abbiamo approvato le tariffe abbiamo confermato le tariffe 2019 in via provvisoria per il 2020 perché questo perché causa un po' l'emergenza covid causa l'introduzione di questo metodo tariffario nel 2019 da parte di Arera si sono diciamo quando poi hanno provato ad applicarlo si sono chiaramente quando si va a modificare una metodologia di calcolo ormai consolidata si creano dei meccanismi cioè non sempre tutto funziona bene quindi Arera ha dovuto aggiustare la prima delibera dell'agosto 2018 varie volte quindi per il luglio a luglio diciamo pochissimi enti erano in grado di riuscire a provare con il nuovo metodo tariffario perché chiaramente anche gli operatori hanno dovuto adeguarsi a questo nuovo metodo tariffario i gestori del servizio hanno dovuto adeguarsi a questo metodo tariffario e quindi Arera ha deliberato questa possibilità quindi di approvare in via provvisoria entro il 31 luglio confermare le tariffe del 2019 approvare il piano economico finanziario vedato secondo la MTR entro il 31 dicembre 2020 eventuali conguagli sarebbero andati noi abbiamo deliberato di farli ricadere sul triennio successivo cioè 21, 22, 23 quindi eventuali conguagli che ci saranno tra quanto approvato a luglio e quanto approvato oggi andranno a ricadere sui prossimi anni ecco se voi andate a vedere nel diciamo le grosse differenze rispetto a quanto si è fatto fino ad oggi Echierera ha voluto fare un primo luogo un attimo di chiarezza su quello che è effettivamente il perimetro del servizio rifiuti cioè andate a individuare quei servizi che possono essere ricompresi all'interno del piano economico finanziario del servizio rifiuti e di fatto quello che è il nostro appalto con il nostro gestore che è la ditta Zanetti rientrano in questo perimetro cioè tutti i servizi che noi abbiamo chiesto a Zanetti di fare e che paghiamo all'interno dell'Atari sono tutti servizi che Arera riconosce essere pertinenti la gestione dei rifiuti urbani quindi già lì è un buon punto positivo perché non ci ha obbligato a dover inventare alchimie per far tornare i conti va dato atto comunque che il comune di Ponteranica storicamente nella gestione del servizio rifiuti è sempre stato molto rigoroso non a caso sia dal punto di vista del percentuale di raccolta di riferenziata ma anche dei costi siamo abbondantemente sotto quella che è la media nazionale e anche la media regionale in secondo luogo l'altra grossa modifica che ha fatto Arera è quella di dire che il gestore deve consegnare all'ente i suoi costi reali cioè non deve consegnare all'ente come si faceva una volta i ricavi cioè i costi aumentati dell'utile d'impresa ma deve i suoi costi nudi e crudi come deve fare questa procedura qua questa procedura viene fatta certificando il bilancio praticamente la Zanetti ha dovuto presentare un bilancio certificato dove ha detto che tutte le poste che hanno inserito sono relative ai soli servizi realizzati all'interno del territorio comunale di Ponteranica e quei costi lì sono i costi che loro realmente hanno avuto per gestire quel servizio all'interno del comune di Ponteranica questo lavoro però non va fatto sul bilancio 2020 ma sul bilancio 2018 ecco perché anche le ditte hanno fatto fatica perché hanno dovuto riprendere il bilancio 2018 e andare a riscriverlo secondo le procedure che ha detto Arera se voi andate poi a prendere adesso vado veloce e accelero se voi andate a prendere la tabellina che c'è all'interno della delibera vi faccio notare due o tre cose in primo luogo i costi restano sempre suddivisi in costi fissi e costi variabili voi sapete che i rifiuti sono divisi in costi fissi e costi variabili cioè ci sono dei costi che non possono essere abbattuti che sono i costi fissi e costi variabili principalmente sono i costi di smaltimento di trasporto e smaltimento del rifiuto che quelli chiaramente variano in funzione della produzione e della tipologia di rifiuto all'interno dei costi variabili poi Arera dice siccome i rifiuti oggigiorno vengono utilizzati in primo luogo vengono differenziati e quindi sono materie seconde quindi il gestore chi li raccoglie può venderli e ricavare qualcosa e in secondo luogo possono essere utilizzati anche per produzione di energia voi sapete che per esempio il nostro rifiuto indifferenziato viene bruciato nell'inceneratore di Dalmine quindi viene prodotto energia ebbene Arera dice quei quei ricavi non possono essere goduti solo dal gestore o da chi produce energia ma devono essere ritornati una parte deve tornare alla collettività che ha prodotto questi rifiuti cioè i rifiuti indifferenziati che noi abbiamo portato in stazione ecologica che abbiamo consegnato porta a porta lo Zanetti li vende però non è corretto che lui non ritorni niente a noi della vendita di questi rifiuti diciamo che il nostro contratto prevedeva già questa tipologia comunque che una parte dovesse tornare adesso Arera dice che vi è infatti cioè loro devono esplicitare quali sono stati i costi effettivamente i ricavi che hanno avuto e è praticamente se voi leggete nelle varie colonne c'è scritto proventi dalla vendita dei materiali ed energia derivante dai rifiuti e sono 12.243 euro poi c'è questo fattore di sharing che viene calcolato con una metodologia illustrata nella delibera di Arera che nel nostro caso è stata proposta dal gestore e approvata dall'ente in 0,4 cioè il 40% di questi costi vengono restituiti alla collettività e di fatto vanno a battere questi ricavi vanno a battere i costi che avevamo mentre per la vendita di rifiuti la Zanetti ha incassato 33.997 euro e ci restituisce il 44% quindi 14.000 euro altro dato che vi vorrei far notare all'interno vedete che il come si chiama la tabellina è suddivisa in tre colonne una colonna sono i costi o i ricavi avuti dal lente la seconda colonna sono i costi sostenuti dal comune scusate il primo gestore il comune e la terza invece è il riepilogo la sommatoria voi vedete che nella seconda colonna quindi quali costi del comune c'è una sola cifra all'interno che sono scritti accantonamenti nei costi comuni sono questi accantonamenti pari a 15.000 euro cosa sono questi 15.000 euro soldi che noi abbiamo deciso di dare la Zanetti che dovrà costituire un fondo per i crediti che lei vanterà nei confronti del comune di Ponteranica nel caso non tutti gli utenti dovessero pagare la Tari cioè Arrera dice all'interno della Tari dovete comunque prevedere un fondo che va a ristorare il gestore nel caso in cui qualche utente non vada a pagare e quindi comunque il gestore il servizio l'ha fatto e va comunque remunerato questi soldi chiaramente la Zanetti li incassa perché sono loro che incassano la tariffa ma non possono utilizzarli cioè devono costituire un fondo e saranno e saranno autorizzati ad utilizzarli quando effettivamente ci dimostreranno chi sono gli utenti quanto quanti sono quanto ammontano i loro crediti nei confronti degli utenti che non hanno corrisposto alla tariffa da ultimo vi faccio notare poi che sono alcune nelle grandezze fisico-tecniche per esempio vedete la percentuale di raccolta differenziata che nel 2018 è stata l'89-62 vedete anche il fabbisogno standard che sono 22,18 euro chilo che se non ricordo male quello lombardo mi sembra che sia sul 54 euro chilo e in ultimo questo qui è il dato un po' più importante vedete che in fondo nella verifica del limite di crescita cosa vuol dire? vuol dire chiariera dice tu adesso mi hai fatto tutta questa bella tabellina relativa al 2018 vai a confrontarla col 2017 qual è stato l'incremento col 2017 secondo una serie di parametri che sono questi con coefficienti di recupero della produttività e così via qual è stato l'incremento? l'incremento è stato 10,46 cioè il 4,6% tra il 2017 e il 2018 ebbene quello è il limite per cui la tariffa dal 2018 al 2020 non può incrementare cioè quei costi che tu mi hai dimostrato avere nel 2018 nel 2020 non possono aumentare di più del 4,6% nel nostro caso l'aumento è del 4,54% quindi inferiore al 4,6 e quindi il nostro piano finanziario supera anche questa verifica nel caso non fosse stata verificata questa disuguaglianza cioè fosse risultato maggiore l'incremento Arrera dice può anche essere superiore tu però devi giustificarmi come mai hai avuto a cosa è dovuto questo incremento giustifica ma non fammelo vedere a livello di costi allora magari te lo autorizzo altrimenti non te lo autorizzo quindi di fatto noi essendo sotto questa la verifica è soddisfatta e quindi diciamo anche anche quest'ultima verifica torna a posto e quindi non dovremmo avere problemi perché poi adesso se voi vedete all'interno della delibera dei documenti della delibera oltre a tutto quello che ci ha dato Zanetti la relazione l'asseverazione del suo bilancio e così via c'è la validazione fatta dal responsabile del nostro settore finanziario cioè il responsabile del nostro settore ha validato questo piano dice che corrisponde a quelle che sono le metodologie di Arrera e soprattutto dice che anche l'incremento è inferiore a quello al massimo previsto calcolato secondo l'MTR quindi quanto vale il nostro piano finanziario 485,092 che è leggermente superiore perché è quello che avevamo approvato le tariffe che avevamo approvato a luglio corrispondevano a 474 quindi adesso dovremo andare a verificare come andare questa differenza nel piano finanziario dovrà essere traslata nel piano finanziario 2021 eventualmente se ci fossero conguagli andranno fatti come vi ho detto nei tre anni successivi e qui chiudo cosa potrei dire ancora ecco diciamo è un po' complicata il meccanismo rispetto a prima però almeno io credo che sia fatta prima di tutto una maggior chiarezza anche per chi andrà a pagare perché vengono esplicitati i costi in modo molto più chiaro c'è questo accantonamento che di fatto ora diciamo tutela anche il gestore perché il gestore sa che comunque ha un fondo che lo tutela nei confronti di chi non va a pagare la tariffa e da ultimo abbiamo soprattutto questa tutela che la tariffa non può esplodere perché comunque Herrera dice no quello che è il tuo storico giustamente un po' di incremento c'è un po' di inflazione e così via però non può esplodere cioè non puoi aumentarmela da un anno con l'altro del 20% a meno che tu non vai a giustificarmela come? Con miglioramenti del servizio cioè se tu mi dici prima raccoglievi l'indifferenziato una volta al mese adesso me lo raccogli due volte al mese è chiaro che la tariffa può aumentare ma se tu tieni il servizio costante non fai nessuna variazione non ha ragione che incrementi il servizio se non quello che è l'indice ISTAT relativo a queste categorie di servizi sostanzialmente ho finito grazie assessore Cremaschi dico due parole a Chiosa è chiaro che si sta andando in una direzione probabilmente anche corretta di uniformare e omologare quella che è la modalità di rendicontazione delle spese relative alla gestione dei rifiuti questo perché confrontato su base nazionale il dato appare evidente ma anche su base regionale o provinciale ci sono grandi differenze di costi perché come è già stato detto vengono inserite all'interno di questa tariffa voci che non sempre sono proprie è chiaro che con questo meccanismo di omologazione a livello metodologica i comuni perdono un pochino la loro leva o la loro capacità di intervento noi oggi eravamo riusciti ad avere un sistema tariffario estremamente puntuale che rimane nella sua impostazione di massima ma che è un po' temperato dal fatto che comunque Arera ci dà dei paletti all'interno dei quali necessariamente dobbiamo muoverci se la vediamo in una prospettiva un po' più ampia di quella del comune di Ponteranica è senza dubbio una manovra opportuna così come l'è stata per certi versi anche quella relativa alla gestione idrica comune e non più parcellizzata in tanti microgestori poi qualcuno ci guadagna qualcuno ci perde ma il ragionamento visto nella il sistema visto nella sua complessità senz'altro senz'altro ci guadagna noi ripeto avevamo calibrato un sistema di concessione molto spinto che in questo modo subisce alcune contemperazioni col sistema RERA ma rimane integro nella sua impostazione di massima dichiaro aperta la discussione se non ci sono interventi passerò alle dichiarazioni di voto se ce ne sono e quindi alla votazione chi è favorevole all'approvazione del piano economico finanziario Tari anno 2020 così come illustrato favorevoli contrari astenuti due consiglieri di minoranza per l'immediata esecutività favorevoli unanimità quindi il consiglio comunale approva il piano economico finanziario Tari anno 2020 passiamo quindi alla trattazione del punto successivo che è l'approvazione del programma annuale degli incarichi esterni di studio ricerca consulenze e collaborazione ex articolo 3,55 della legge 244 2007 e successive modifiche e integrazioni relative all'anno 2021 anche qui siamo nell'alveo dei documenti propedeutici alla programmazione 2021 in questo caso la norma citata che è l'articolo 3,55 impone di andare a individuare le categorie di incarichi di collaborazioni che il comune intende affidare nel corso dell'anno 2021 con dei paletti che sono essenzialmente di natura economica per i quali esiste un limite di spesa per questo tipo un limite economico per questo tipologia di spesa che per quanto riguarda il comune di Ponteranica è fissato in euro 41.744 euro noi già da diversi anni che manteniamo questa impostazione ovvero abbiamo due macro contenitori quindi andiamo a inserire degli importi in due missioni quindi la missione 1 che è quella relativa ai servizi istituzionali generali di gestione e la missione numero 5 tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali per entrambe queste missioni andiamo a introdurre prevedere un capitolo dedicato a incarichi di consulenza legale in materia di tributi contabile fiscale affari generali lavori pubblici urbanistica ambiente servizi sociali istruzione e servizi demografici incarichi di consulenza collaborazione autonoma in materia di tributi contabile fiscale affari generali lavori pubblici e urbanistica quindi questa voce viene duplicata per le due missioni per quanto riguarda la missione 1 l'importo previsto sono 13.000 euro 690 ripartiti che vengono poi ripartiti negli incarichi che vi ho citato per quanto riguarda la missione 5 questo importo invece ammonta 2.500 euro la complessità di questi la somma di questi due stanziamenti ammonta a complessivi 16.000 euro 190 quindi ben al di sotto del limite di spesa di 41.000 euro previsto dalla normativa e questo è quanto dichiaro aperta la discussione se non ci sono interventi passerei a dichiarazione di voto se ce ne sono e quindi la votazione che è favorevole all'approvazione del programma annuale degli incarichi esterni così come è stato illustrato contrari astenuti due consiglieri di minoranza per l'immediata esecutività favorevoli unanimità quindi il consiglio comunale approva il programma annuale degli incarichi esterni passiamo quindi al successivo punto aggiornamento del contributo di costruzioni secondo quanto disposto dall'articolo 16 del dpr 380 2001 e dagli articoli 43 44 e 48 della legge regionale numero 12 del 2005 e lascio la parola all'assessore cremaschi allora questa è una delibera diciamo abbastanza tecnica perché andremo a vedere come di fatto le modifiche introdotte dalla legge 18 del 2019 alla legge 12 cioè la legge regionale che si occupa dell'urbanistica diciamo sono abbastanza puntuali e vanno abbastanza di settore nel senso che vanno a chiarire alcuni e modificare alcuni aspetti molto tecnici della legge 12 in primo luogo allora il dpr è trottante all'articolo 16 comma 6 prevede che i comuni ogni 5 anni aggiornino gli anni di urbanizzazione mentre l'articolo 44 della legge regionale 12 dice che questo deve avvenire ogni 3 anni noi quando abbiamo fatto l'ultimo aggiornamento l'abbiamo fatto con la delibera di consiglio comunale numero 24 del marzo 2015 quindi di fatto 5 ormai quasi 5 anni e mezzo fa non succede nulla se non li aggiorni se non vengono aggiornati vuol dire che non c'è necessità di aggiornarli e vengono confermati gli oneri vigenti oggigiorno non era più possibile diciamo confermare gli oneri vigenti perché proprio la legge 18 ha modificato un po' quello che era stato l'impianto del 2015 che nasceva un po' dalle modifiche introdotte al dpr 380 dal decreto del fare e dalla legge 31 del 2014 che di fatto aveva modificato sempre alcuni articoli della 18 in particolare il 43 il 44 e il 48 che sono quelli che parlano di oneri ecco importante poi nelle premesse della delibera c'è questo comma che dice con successivo provvedimento separato l'amministrazione procederà gli edempimenti di cui l'articolo 8 comma 2 lettera e 5 se l'articolo 40 bis comma 1 della legge regionale 12 che sono quelli che parlano della rigenerazione urbana e che è uno degli altri punti all'ordine del giorno che se non vado errato dovrebbe essere il 13 quindi per quanto riguarda la rigenerazione urbana ne parleremo nel successivo punto all'ordine del giorno viene poi citata una nota redata dall'architetto Marco Lamerich all'estensore della variante 2 al PGT del luglio 2020 con la quale viene specificato che gli ambiti a volumetria definita appartengono al tessuto urbano consolidato questo perché la legge con la legge 18 del 2019 la legge regionale va a identificare dice che all'interno del tessuto urbano consolidato va a modificare gli oneri degli interventi che si fanno all'interno del tessuto urbano consolidato rispetto a quelli che si fanno al di fuori del tessuto urbano consolidato quindi abbiamo chiesto all'estensore della variante 2 dici se gli ambiti a volumetria definita perché tutti siamo d'accordo che gli ambiti dove già è costruito le zone urbanistiche dove già è costruito va bene sono dentro il tessuto urbano consolidato perché di fatto ci sono già le abitazioni quindi il tessuto urbano consolidato gli ambiti a volumetria che sono degli ambiti oggigiorno non edificati ma che possono essere edificati sono piccoli ambiti all'interno del territorio urbanizzato quindi questi qui sono fuori o sono ricomprese nel tessuto urbano consolidato e attraverso diciamo una serie di ragionamenti l'estensore del PGT ci ha detto no quelli lì sono compresi all'interno del tessuto urbano consolidato sebbene siano zone di nuova edificazione però siccome la logica che lui ha detto sono piccoli ambiti sono di fatto quelle che erano una volta le zone di completamento quindi possiamo considerarle all'interno del tessuto urbano consolidato sebbene siano zone di nuova edificazione altra cosa importante che c'è nella nota di Lameri è la comparazione di quelle che sono le zone urbanistiche del PGT con quelle del DM del 68 cioè nel senso il DM del 68 sinceramente non riesco a capire perché c'è il DM del 68 divideva le zone urbanistiche in A, B, C, D, E, F a seconda varie categorie poi nella legge 12 ci sono inventate ognuno dai nomi che vuole tipo nelle bianchiamate ambiti territoriali ambito residenziale consolidato riqualificazione di via ramera rado di equilibrio ambientale e così via però poi escono delle leggi tra cui quella sul bonus facciate di un anno e mezzo fa che dice lo puoi fare se so in zona A, B o C ma qual è la zona A, B o C a Ponteranica se adesso la chiamiamo residenziale consolidato e così via quindi abbiamo chiesto a Lameri di farci anche una tabellina dove ci dice cosa sono le zone A le zone B e le zone C e quindi diciamo chi agevolo anche per esempio banalmente per il bonus facciate se uno si trova l'edificio in zona A o B può avere il bonus facciate se uno in zona C non può averlo venendo poi l'altro al cuore della delibera ritornando qui nella nostra delibera sull'adeguamento del contributo di costruzione in primo luogo quindi il primo passaggio questo qui gli ambiti di volumetria definita fanno parte del tessuto urbano consolidato in secondo luogo confermiamo gli importi a livello di valore assoluto degli owner di urbanizzazione che erano già stati previsti nella delibera del 2015 va dato atto comunque che la delibera del 2015 aveva già confermato gli importi degli owner di urbanizzazione della precedente delibera che risaliva al 2010 e che a sua volta diciamo era figlia di una delibera fatta nel 2008 dove erano stati previsti dove praticamente gli owner era stata fatta una revisione degli owner di urbanizzazione andando a verificare che effettivamente gli owner di urbanizzazione previsti nel nostro comune corrispendessero fossero coerenti con quelli che sono i costi di realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria perché la legge dice quegli owner devono corrispondere a quello che è l'effettivo costo quindi di fatto altro dato importante noi confermiamo il valore assoluto degli owner di urbanizzazione e poi adesso entriamo nel cuore della delibera e di quello che è un po' la complessità di tutte queste norme che poi si inseriscono e vanno a fare anche a confondere a rendere difficile per noi utenti capire poi cosa dobbiamo pagare quando andiamo a fare un intervento edilizio di fatto il contributo di costruzione che è composto da tre elementi il costo di costruzione owner di urbanizzazione primaria e secondaria ecco il coma 43 coma 2 bis già quando si legge coma 2 bis vuol dire che c'era un coma 2 che è stato introdotto un 2 bis quindi già qui una complicazione comunque dice che il contributo di costruzione può essere incrementato da 1 al 5% per tutti gli interventi di nuova costruzione che consumano nuovo suolo agricolo sia all'interno che all'esterno del tessuto urbano consolidato quindi ogni volta che tu fai un intervento e vai a trasformare del terreno che oggi è inedificato in terreno edificato dice si può aumentare dall'1 al 5 noi proponiamo di aumentarlo del 3% quindi un valore medio il contributo di costruzione quindi tutti e tre costi di costruzione hanno i primari e secondari mentre l'articolo sempre il 43 coma 2 sexies quindi vuol dire che prima ci sono altri coma 2 1 bis 3 4 5 sexies prevede le maggiorazioni del solo costo di costruzione e noi abbiamo deciso praticamente di applicare i parametri minimi di incremento proposti dalla legge 12 scusate dalla legge 18 cioè il 30% per gli interventi che consumano suolo agricolo nello stato di fatto non ricompresi nel tessuto urbano consolidato quindi chi costruisce al di fuori del tessuto urbano consolidato tendenzialmente da noi gli altri trasformazioni avranno un incremento del costo di costruzione rispetto al costo base del 30% 20% per gli interventi che consumano suolo agricolo all'interno dello stato di fatto all'interno del tessuto urbano consolidato quindi un po' meno e 50% per gli interventi di logistica e trasporto non incidenti sulle aree di rigenerazione urbana cioè quindi quelli non dove ci sono aree già magari dismesse che vengono trasformate ma in aree nuove il 50% quindi già capiamo un po' la logica che vedete che la legge regionale va a colpire pesantemente tutti quegli interventi con maggiorazioni anche pesanti perché il 30% del costo di costruzione è tanto tenete conto per una villetta non so di 800 metri quadri il costo di costruzione è circa 24-25 mila euro il 30% in più è un'onere abbastanza considerevole quindi va a colpire tutti quegli interventi di nuova edificazione sul suolo attualmente libero poi e poi c'è una tabellina che va a riepilogare quindi io ho il 30% più devo a questo per esempio nel primo caso interventi che consumano suolo agricolo nello stato di fatto non ricompresi nel tessuto urbano consolidato ho il 30% del contributo di costruzione più il 3% che mi derivava da comma 2 bis il comma 2 bis mi dice il 3% più il 30% dal 2 sexes e così via quindi c'è una tabellina che riepiloga questo poi viene richiamato il fatto che l'applicazione del contributo di costruzione per gli ambiti di rigenerazione urbana verrà definito con una successiva deliberazione e poi invece ci sono elencati quelli che sono le modifiche per quanto riguarda gli oneri di urbanizzazione quindi primari e secondari quelli richiamati nell'articolo 44 della legge regionale 12 e di fatto la legge regionale 18 propone una riduzione dal 60 minimo 60% degli oneri di urbanizzazione sia primari che secondari per gli interventi di ristrutturazione edilizia noi proponiamo una riduzione ulteriore dal 70% appunto per incentivare questa tipologia di interventi e di fatto poi vedete che c'è la tabellina degli oneri di urbanizzazione che riepiloga il costo per le nuove costruzioni il costo per le nuove costruzioni incrementato del 3% quindi quelle al di fuori del tessuto urbano consolidato la riduzione del 70% per gli interventi di ristrutturazione e eventualmente la riduzione del 50% che è la minima possibile per le aree di rigenerazione urbana quindi di fatto i punti salienti sono uno che andiamo a confermare il valore assoluto degli oneri quindi sia per tutte le categorie edilizie previste in secondo luogo quindi abbiamo detto il 300% di incremento del contributo di costruzione per gli interventi che consumano suolo agricolo sia dentro che fuori dal TUC mentre per quelli fuori dal TUC il 30% di incremento del costo di costruzione nel caso di interventi dentro il tessuto urbano consolidato il 30% 20 scusate 30% al di fuori del tessuto urbano consolidato 20% all'interno del tessuto urbano consolidato 50% per gli interventi di logistica e riduzione degli oneri di urbanità per gli interventi di ristrutturazione compresi quelli di demolizione di ricostruzione quindi questa è la proposta di delibera di fatto la logica che ci propone la legge regionale è quella di incentivare gli interventi di ristrutturazione e di recupero del territorio già urbanizzato e penalizzare invece l'utilizzo di nuovo suolo agricolo cosa dire sì è una cosa condivisa questa impostazione da un altro io credo che quando si arriva a una legge dove c'è il comma 2 sexies forse magari anche il caso di rivederla di resettare tutto e ripartire magari da capo con una differente anche impostazione di quelli che sono i vari contributi e quant'altro grazie grazie assessore cremaschi dichiaro aperta la discussione se non ci sono interventi passerei a dichiarazione di voto se ce ne sono e quindi alla votazione chi è favorevole all'aggiornamento del contributo di costruzione così come illustrato contrari astenuti due consiglieri di minoranza per l'immediata esecutività favorevoli unanimità grazie passiamo quindi al successivo punto iscritto all'ordine del giorno che è l'approvazione del documento unico di programmazione DUP 2021-2023 lascio la parola all'assessore Ceruti grazie allora su questo punto andiamo via abbastanza velocemente dato che siamo siamo chiamati a deliberare l'approvazione del documento unico di programmazione che come si legge dalle note diciamo in premessa alla delibera riepiloga un po' i passi e gli step che ci hanno preceduto nel corso delle diverse giunte consigli comunali in un percorso che porterà questo e il prossimo punto all'ordine del giorno a concludere gli atti propedeutici al bilancio in particolare si ricorda come con deliberazione di giunta numero 82 del 15 settembre 2020 è stato approvato il documento unico di programmazione triennio 2021-2023 che ricordo essere stato invece illustrato entro i termini di legge ovvero entro il 31 luglio del 2020 con successiva deliberazione numero 23 datata 28 settembre 2020 il DUP è stato presentato in questo consiglio comunale al fine di consentire la presentazione da parte di consiglieri di eventuali richieste di integrazione di modifiche e appunto non essendo pervenute tale integrazioni o richieste di modifiche si consolida oggi con questa approvazione il documento unico di programmazione propedeutico alla successiva presentazione del bilancio di previsione 2021-2023 ho concluso grazie dichiaro aperta la discussione ci sono dichiarazioni di voto e quindi alla votazione chi è favorevole all'approvazione del documento unico di programmazione DUP 2021-2023 contrari astenuti due consiglieri di minoranza per l'immediata esecutività favorevoli unanimità grazie passiamo quindi al successivo punto iscritto all'ordine del giorno che è l'approvazione della nota di aggiornamento al documento unico di programmazione DUP 2021-2023 prego sessore Ceruti come dicevo chiudiamo con questo punto all'ordine del giorno tutti gli atti giuntali o consigliari utili poi all'approvazione del bilancio di previsione 2021-2023 ricordando come si è resa necessaria modificare il documento che è stato approvato al punto precedente all'ordine del giorno al fine di inserire sostanzialmente tutti gli elementi che caratterizzeranno che hanno caratterizzato e che vedrete come sono stati inseriti all'interno del bilancio di previsione 2021-2023 in particolare sono stati aggiornati tutti i richiami a missioni e capitoli che riguardano la sezione operativa 2021-2023 nonché l'aggiornamento delle opere che in parte in buona parte sono stati descritti nel punto numero 4 dell'ordine del giorno di oggi in particolare è stato inserito all'interno degli interventi previsti nel 2021 l'intervento sul manto sintetico di via Ottomarzo finanziato come già stato detto per 350.000 euro da contributo ministeriale per 250.000 euro da fondi propri dell'ente concluso non c'è null'altro da segnalare grazie assessore dichiaro aperta la discussione dichiarazione di voto se ce ne sono e quindi votazione chi è favorevole all'aggiornamento del DUP contrari astenuti due consiglieri di minoranza per l'immediata esecutività favorevoli unanimità grazie passiamo quindi al successivo punto iscritto all'ordine del giorno che è l'approvazione del bilancio di previsione 2023 prego assessore grazie ricordando che come amministrazione riusciamo per la quinta volta consecutiva quindi a partire dal 2016 in poi ad approvare il bilancio di previsione entro il termine del 31 dicembre dell'anno precedente situazione è questa che come abbiamo imparato nel corso di quasi sia diciamo contabili ma soprattutto di efficienza della macchina operativa potendo già operare in esercizio definitivo e non provvisorio già dal primo gennaio del 2000 dal primo gennaio dell'anno dell'anno nuovo quindi del 2021 abbiamo diciamo recuperando quanto previsto quanto descritto nella parte delle premesse della delibera abbiamo ricordato come il decreto rilancio dell'anno 2020 quindi decreto legge del 19 maggio del 2020 dava la possibilità in emergenza epidemiologica da covid di poter protrarre il termine per l'approvazione del bilancio quindi posticipandolo al 31 gennaio 2021 tale tale termine come dicevo precedentemente non abbiamo ritenuto necessario doverlo rispettare proprio per portarci a casa tutta una serie di vantaggi già menzionati ma questo termine ci è utile per come dire portare diciamo a compimento una variazione della cosiddetta COSAP in particolare del regolamento sulla COSAP sulla COSAP dato che la legge di bilancio 2020 quindi numero 160 del 2019 prevedeva che entro il bilancio entro i termini di previsione del bilancio del 2021 fossimo diciamo fossimo obbligati ad intervenire su tale regolamento ed approvarlo e portarlo in Consiglio Comunale l'incertezza normativa che diciamo aleggia intorno a questo nuovo canone di concessione non garantisce noi ma in particolare tutti gli enti locali a definire in modo chiaro tale regolamento pertanto per riuscire a chiudere il bilancio di previsione nei termini che ho già ricordato abbiamo introdotto un'invarianza di gettito sul 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 tributo appunto menzionato quindi sulla COSAP nell'emore di riuscire a capire quale debbano essere i tratti distintivi di tale regolamento cosa che sicuramente andremo a diciamo a definire portare in Consiglio Comunale oggi entro il 30 gennaio successivamente diciamo rimarremo ancorati ad eventuali slittamenti che dovranno pervenire che potrebbero diciamo pervenire nel corso del tempo quindi sempre percorrendo la delibera abbiamo ricordato tutti gli atti giuntali o consigliari che hanno portato che portano oggi questo Consiglio Comunale a poter approvare il bilancio di previsione quindi dal DUP con le relative modifiche a tutte le note integrative alla definizione di tutte le tariffe piuttosto che le imposte o le quote di copertura dei costi complessivi nonché una conferma sia per quanto riguarda l'addizionale IRPEF in vigore ormai dal vado a memoria 2012 per un importo di 0,7% così come andiamo a riconfermare tutte le aliquote e le relative detrazioni sull'IMU così come in essere in questa annualità quindi nel 2020 passando invece a diciamo i tratti distintivi quindi ad un commento un po' più quantitativo e qualitativo del bilancio diciamo che innanzitutto due premesse importanti sono da fare quest'anno rispetto ai bilanci di previsione che siamo stati diciamo che che sia stati chiamati ad approvare nel corso degli anni e in particolare da un lato questo bilancio è caratterizzato da una presenza importante di investimenti investimenti che nel corso degli anni abbiamo inserito man mano che finestre di finanziamento ce lo hanno consentito di inserire a bilancio con delle con variazioni quest'anno siamo nelle condizioni di poterli già iscrivere al primo gennaio 2021 e in particolare troviamo all'interno del bilancio due macro categorie da un lato tutti i contributi che siamo riusciti ad ottenere sulla fine del 2020 e in particolare quasi tutti finanziati dal GAL per circa 700 mila euro questi questi contributi andranno per lo più a finanziare interventi su percorsi ciclopedonali e in particolare un primo intervento riguarderà il sentiero che collega la messa in sicurezza il sentiero che collega Cadellac con Olera per 400 mila euro e agli altri due interventi invece diciamo metteranno metteranno a terra due progetti che abbiamo diciamo siamo riusciti a finanziare complessivamente per 220 mila euro il primo intervento riguarderà il collegamento tra il punto d'usa e il parco letto di Priolo quindi andando a costituire un ulteriore pezzo della dorsale sui percorsi ciclopedonali che caratterizzano il nostro territorio e un altro invece collegherà la sponda sinistra ok quindi la parte opposta al campo di calcio di via Ottomarzo partendo dai via via Mistroli fino ad arrivare sostanzialmente a via Pasinetti questi tre interventi come dicevo fanno parte di un set di contributi diciamo di un set di progetti che abbiamo presentato al GAL e per il quale abbiamo ottenuto finanziamenti finanziamenti a cui si aggiunge un contributo sempre da parte del GAL per 50 mila euro circa relativamente all'acquisto di arredi alla ex stazione questo per quanto riguarda diciamo il grosso degli interventi relativi ai contributi certi a cui si aggiunge quello che è stato già più volte ricordato un contributo ad oggi incerto speriamo di concretizzarlo relativamente appunto all'intervento del campo del manto sintetico di via Ottomarzo intervento già diciamo oggetto di studio nel 2016 allora il bando non fu non fu vinto bando di regione lombardia questa volta proviamo con 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 ministero dello sport e sfruttando appunto il bando sport e periferie riuscire ad agganciare questi 350 mila euro ulteriori entrate che caratterizzano il bilancio di previsione 2020 21 riguardano gli oneri di urbanizzazione come già ricordato parte dell'intervento sul manto potrebbe essere finanziato da oneri di urbanizzazione nel bilancio infatti ai consueti 250 mila euro storici che siamo stati diciamo che abbiamo inserito nei bilanci precedenti siamo andati ad integrare tale voce portandola a 540 mila euro questo anche frutto del fatto che diversi interventi di trasformazione sul territorio si stanno presentando e quindi in prima battuta ipotizziamo di riuscire a intervenire sul campo di via 8 marzo per la quota eccedente questione di urbanizzazione e quindi la quota diciamo oltre i 250 mila euro qualora tale quota non si dovesse verificare abbiamo sempre la possibilità di intervenire come previsto diciamo come avevamo già ipotizzato nel corso del 2020 laddove l'intervento si fosse concretizzato appunto quest'anno per quanto riguarda invece altre caratteristiche sulla componente delle entrate dobbiamo purtroppo rilevare una serie di minori entrate che sono a copertura del titolo primo e in particolare registriamo una contrazione dei canoni di concessione dei diritti di concessione del gas del gas metano per 20 mila euro passando da 135 a 115 mila euro così come vediamo contratta il canone di concessione delle fognature per 15 mila euro a questi si aggiungono due ulteriori voci una una sostanziale partita di giro e riguarda le spese che le associazioni hanno all'interno delle strutture delle strutture comunali per 6 mila euro ovviamente tale associazioni vista la situazione non sono diciamo non sono nelle condizioni di poter usufruire di tali locali tali locali non vengono né illuminati né riscaldati pertanto non vi è la spesa lato nostro ma quindi nemmeno l'entrata lato rimborsuale sul tema invece legato ai fitti reali di fabbricati registriamo in termini precauzionali una contrazione completa del canone legato alla partita BOPO anche se in realtà già questa primavera dovremmo essere nelle condizioni di poter ragionare con la definizione di un bando per poi poter aggiudicare e a quel punto riuscire ad integrare questo capitolo non al 100% ma per la quota residua per i mesi restanti per quanto riguarda invece la componente legata alle spese abbiamo tutto il capitolo relativo agli investimenti che si caratterizza dagli interventi che ho già citato quindi tre percorsi vedono che l'intervento al campo di via Ottomarzo per quanto riguarda invece le spese sul titolo primo purtroppo in questo caso registriamo una direzione opposta rispetto alle entrate ovvero delle maggiori spese maggiori spese che sostanzialmente vanno su tre fronti una diciamo il primo il primo aspetto che sottolineo è la volontà dell'amministrazione di procedere con l'assunzione di pianta organica dei dipendenti comunali per l'anno 2021 tale azione porterà ad un appesantimento della componente della spesa del personale per circa 50.000 euro complessivi e a questi aggiungiamo poi due voci che riguardano l'emergenza covid ovvero riguardano quei servizi che abbiamo garantito sull'anno 2020 e che porteremo a diciamo a chiudere sull'anno scolastico 2020 2021 quindi sui sei mesi del 2021 in particolare il trasporto scolastico e la mensa per andare a coprire quei sovracosti che si sono generati già a partire dal 2020 chiudo segnalando come anche quest'anno come già effettuato nel corso degli anni precedenti alcuni capitoli del comparto sociale non sono stati iscritti a bilancio con una copertura massima e in termini sia temporali che di casi che di casi possibili in termini di diciamo di utenze massime che possono essere previste in questa fase in questa fase e in particolare abbiamo contratto i quattro capitoli in particolare che riguardano rette di ricovero affido di minori assistenza a disabilità e anziani che rispetto alle richieste che sono pervenute dal servizio dal settore servizi sociali sono stati iscritti a bilancio per importi leggermente inferiori ho concluso sì volevo fare semplicemente due sottolineature una senz'altro positiva che quella che è già stata ricordata ovvero la capacità di investimento cioè è significativo immaginare cioè pensare che oggi partiamo con un salvadanaio di opere pubbliche finanziate con soldi galle certe per 700.000 euro al netto di altri finanziamenti che potrebbero arrivare a fronte 700.000 euro a fronte di una capacità ordinaria di spesa del comune per opere pubbliche generalmente che attestata sui 250.000 euro quindi capite che la capacità sia progettuale ma che di agganciare risorse esterne che ci ha caratterizzato in questi anni diventa particolarmente significativa se si vuole riuscire a incidere più significativamente di quello che consentirebbero invece le sole risorse proprie dell'ente che sono sicuramente circoscritte questa la nota la nota positiva la nota che lascia un po' tutti preoccupati invece che cosa ci riserverà questo 2021 nel senso che il bilancio 2020 è stato sicuramente sorretto da risorse extra quindi destinate dal Ministero per far fronte all'aumento dei costi dei servizi essenzialmente per dare assistenza alle fasce più bisognose ora bisogna capire se a fronte di una crisi che sicuramente si farà sentire in maniera più strutturata nel 2021 se queste risorse di sostegno ci saranno oppure no e se sì in che misura questo come accennava l'assessore determina il fatto che partiamo contratti su alcune previsioni di spesa con l'idea poi di poterle progressivamente integrare in corso d'anno man mano che andremo ad accertare le risorse che verosimilmente verranno stanziate perché a sostanziale parità di entrate come è stato ricordato i costi dei servizi che siamo abituati a garantire ai nostri cittadini aumentano a fronte degli adempimenti covid che portano al fatto che i servizi costano molto di più di quello che costerebbero il regime ordinario questo scompendo evidentemente ci determina dei problemi e finché sono entrate risorse esterne come contributi dallo Stato il sistema regge se questi contributi dovessero venire meno è chiaro che avremmo qualche problema di sostenibilità viviamo necessariamente alla giornata la stessa scelta di andare a provare il bilancio di previsione a dicembre quando lo scenario non è ancora del tutto completo comporta e ormai siamo abituati ad operare in questo modo di fare continue variazioni in corso d'opera per far fronte al mutare delle situazioni basti pensare che nell'anno che stiamo chiudendo nel 2019 abbiamo operato 12 variazioni rispetto al punto di partenza originario è necessariamente un modello di programmazione un po' elastico che serve per far fronte ad una situazione mutevole e che ahimè ci costringe a continuare a rincorrere le emergenze ma temo che anche questo 2021 sarà un po' caratterizzato da questa necessità chi era aperta la discussione professore gambe allora volevo solamente integrare quello che ha detto il sindaco e l'assessore Ceruti sul fatto di coprire solamente parzialmente quelle che sono le esigenze del settore sociale solitamente il settore sociale è sottoposto a un trend che negli ultimi anni è stato crescente e per alcuni versi nel caso del covid soprattutto per quelle che sono le famiglie indigenti che hanno perso il lavoro è aumentato fortunatamente in questo caso anche con il bonus spesa e tra l'altro apro e chiudo una parentesi abbiamo riaperto un'ennesima finestra per il bonus spesa proprio da questa settimana su altri fronti invece abbiamo avuto una riduzione di quelli che sono i servizi ad esempio il SAD ha avuto una riduzione proprio per il fatto che alcuni utenti non volevano gli ausiliari in casa oppure la stessa cosa è capitata anche per quanto riguarda il centro socioeducativo alcuni utenti hanno lasciato il centro socioeducativo proprio perché i familiari temono molto per i ragazzi perché già fanno parte di una categoria fragile la stessa cosa vale per le RSA le RSA sapete che sono state colpite del covid anche alcuni dei nostri utenti sono deceduti per quanto riguarda la tutela minori anche due ragazzi della tutela minori questo non è chiaramente dovuto al covid però sono usciti dalle comunità quando parliamo di bassi chiaramente però il dispendio per questi utenti parla anche di 10 euro quindi è sostanziale questo proprio perché il sistema sociale è molto altalenante diciamo così e soprattutto in questa fase perché la copertura è parziale poi andremo avanti durante l'anno con variazioni consigliere Cornago prego no volevamo ringraziare l'assessore Ceruti l'amministrazione i dipendenti comunali perché essere arrivati qua il 31 il 30 di dicembre ad approvare il bilancio di previsione comporta già tra due giorni no tra due giorni no tra tre perché tra due giorni è festa di poter già evitare l'esercizio provvisorio e volevo concentrarmi su alcuni punti perché l'assessore Ceruti ha citato numeri ma questi numeri poi sono anche opere e opere effettive che i nostri concittadini andranno a utilizzare soprattutto le piste ciclopedonali su cui ha se speso perché queste opere così come le altre due che ci potrà ricordare anche l'assessore Cremaschi che sono la pista ciclopedonale che va da via Primo Maggio fino a via Rigla che si sta evolvendo e la pista Maresana Castello che dovrebbe essere già terminata comunque in questi tra questi mesi e i prossimi tre anni adesso non so quando saranno eseguiti i lavori per le altre tre piste ciclopedonali diciamo ci sono nell'arco di tre anni è un numero notevole mai credo nella Ponteranica se non nella storia Ponteranica così tante opere siano state portate a termine e quindi il nostro anche vabbè non è la dichiarazione di voto però è proprio per ringraziare come questi il bilancio questi soldi vengono spesi per opere e soprattutto dalle opere anche in vista abbiamo visto come in questo in quest'anno soprattutto che ci ha colpito con la pandemia i clopedonali che sono a misura di persone aiutino anche un nuovo tipo di mobilità mobilità green ma anche i clopedonali di via rigla perché forse l'esempio più calzante che mi viene o anche quella castello maresana che può essere utilizzabili cosa che non avveniva precedentemente sino proprio a misura di tutte le persone e per questo vi ringraziamo e su cui siamo assolutamente favorevoli grazie consigliere prego Assessore Cermaschi no dicevo solo una cosa perché chiaramente come ha anticipato il sindaco le piste ciclopedonali l'unica in programma era quella da via primo maggio e via rigla che avevamo già progettato alla fine dello scorso mandato le altre è stato un po' un caso il caso ha voluto così perché diciamo c'erano questi finanziamenti del GAL che abbiamo deciso di questi bandi del GAL che abbiamo partecipato e siamo anche stati fortunati nel senso che abbiamo ricevuto il contributo e chiaramente il contributo del GAL era indirizzato verso le piste ciclopedie di interventi chiaramente quello della mobilità dolce è sempre stato un tema caro a questa amministrazione ma anche altre amministrazioni che hanno amministrato il Comune di Ponteranica e niente chiaramente gestire 700.000 euro di opere più altri 250 non è con due persone e mezza non è perché di fatto l'ufficio tecnico lavori pubblici ci sono due Stefano a mezza l'edilizia privata e altre un istruttore tecnico e un amministrativo non è una cosa facile però va bene ci siamo riusciti neanche in altre occasioni vedremo di riuscirci anche adesso grazie ultimo intervento scusate parlo per me scusami volevo sottolineare anche un altro tipo di investimento che non è in opere pubbliche ma è in risorse ovvero la scelta di investire nel aumentare l'organico comunale è sicuramente penso una scelta opportuna e efficace perché sicuramente aumenterà la capacità degli uffici di far fronte ai numerosi impegni e alle numerose sollecitazioni che ci pervengono e quindi ritengo che sia segnalare anche questo tipo di investimento perché rientra anche questa nel consolidamento di un altro tipo di patrimonio conterranica e che penso possa essere anche questa a disposizione di collettività prego consigliere no l'assessore cremaschi diceva che ovviamente i soldi forniti e largiti dal gal che provengono dall'unione europea se non mi sbaglio dai fondi anche quella è stata la capacità di intercettarli perché ovviamente non so quanti siano i comuni appartenenti o che possono sono una decina forse tutti quelli del parco dei coli una decina 6 o 7 ok va bene però anche quella che è la capacità di perché non è che solo il comune di ponterranica se non mi sbaglio il comune di ponterranica è stato forse il primo ha preso la maggior fetta e non è che perché il comune di ponterranica perché ha saputo intercettarli diciamo che al completamento dei contributi ricevuti sono già stati citati i 20.000 euro ricevuti per la macchina in dotazione alla protezione civile e anche ai dipendenti nonché i 30.000 euro di arredo della ex stazione quindi anche sul comparto sociale andiamo a intervenire in questa incontrazione per la precisione visto che c'è anche i comuni che possono accedere al GAL sono sette perché per una strana alchimia i comuni non classificati come montani quindi Curno e Mozzo non possono partecipare non hanno accesso ai contributi resta il fatto e nemmeno il comune capoluogo Bergamo resta il fatto ed è dato che volevo sottolineare che siamo sicuramente il comune che più ha usufruito beneficiato di questi risorse a dimostrazione di una certa capacità progettuale e di una certa elasticità nel saper adeguare la nostra programmazione alle finestre che si aprono per poter accedere a risorse esterne e questo come premessa ci consente di ampliare di molto la nostra capacità di investimento in opere pubbliche che diversamente avrebbe a disposizione un budget molto più circoscritto ci sono altri interventi passerei quindi alle dichiarazioni di voto se ce ne sono alla votazione chi è favorevole all'approvazione del bilancio di previsione 2021-2023 contrari astenuti due consiglieri di minoranza per l'immediata esecutività che è favorevole unanimità passiamo quindi al successivo punto razionalizzazione delle società partecipate revisione periodica delle partecipazioni societarie possedute dal Comune di Ponteranica al 31-12-2019 riempimento ex articolo 20 del decreto legislativo 175-2016 prego Assessore Ceruti su questo punto all'ordine del giorno non mi aspetto la stessa partecipazione né tanto meno contributi diciamo di dichiarazioni di voto vista l'aridità del contenuto di questo di questo provvedimento in buona sostanza quello che ci viene chiesto e vi svelo già chi è l'assassino ovvero che ogni anno ogni ente pubblico in particolare i comuni sono chiamati a verificare lo stato diciamo le caratteristiche partecipate del rispettivo ente pubblico hanno nei confronti di una serie di caratteristiche caratteristiche che possono riguardare la composizione sociale che possono riguardare la composizione sociale che produce questa società partecipata piuttosto che la composizione organica tutte caratteristiche queste che per le due partecipazioni che il comune di Ponteranica ha una diretta e una indiretta quella diretta con un'iacque per una quota dello 0,67% e quella indiretta con ingegnerie toscane SRL per il tramite della partecipazione di un'iacque dicevo non hanno quindi caratteristiche queste che consentono in buona sostanza di non dover procedere ad alcuna razionalizzazione fusione soppressione o cessione di quota in quanto non ricorrono le condizioni previste dall'articolo 20 citato al punto all'ordine del giorno motivo per il quale non è richiesta tanto meno quindi nella dismissione e qualsiasi atto diciamo diverso dall'attuale dall'attuale situazione in termini particoloso grazie dichiaro aperta la discussione se ci sono interventi dichiarazioni di voto altrimenti passerei la votazione che è favorevole all'approvazione del punto all'ordine del giorno contrari astenuti due consiglieri di minoranza per l'immediata esecutività favorevoli unanimità quindi abbiamo concluso il pacchetto dei provvedimenti strettamente legati al bilancio previsionale 2021 passiamo quindi all'adempimenti previsti della legge regionale 18 del 2019 modificativa della legge regionale 12 del 2005 legge per il governo del territorio nasce la parola l'assessore Tremaschi contenuti di questa di fatto adesso andiamo a fare la seconda delibera sempre relativa alla legge di ciò abbiamo visto prima con la modifica degli oneri di urbanizzazione la seconda è questa che è un po' più complessa diciamo che questo termine il termine del 31 dicembre tra l'altro è stato spostato a febbraio credo da una recente era chiaramente questo qui doveva essere il termine era se non ricordo male a marzo che poi è stato prorogato a luglio e poi dopo si è arrivati a dicembre appunto causa l'emergenza covid sono temi abbastanza importanti dal punto di vista urbanistico personalmente credo che forse un'impostazione un po' più organica sarebbe necessaria piuttosto che intervenire con provvedimenti diciamo appunto dove si va a modificare il coma e poi raggiungere articoli 40 bis di fatto dobbiamo andare a deliberare su tre tematiche la prima che tratteremo per ultimo in urbane senza l'articolo 8 2 e qui comma 2 lettera equinquest della legge regionale 12 gli immobili dismessi da oltre cinque anni che causano criticità e degrado e l'altro punto è gli ambiti da escludere dall'applicazione dell'articolo 8 comma 1 della legge regionale 12 2005 partirei da quest'ultimo punto quindi nella mia diciamo spiegazione dal punto dall'ultimo punto che è quello un po' più semplice nel senso che la legge regionale 18 ecco in primo luogo abbiamo dato in carico sempre dall'architetto Lameria estensore della variante 2 al PGT di produrci una relazione su tutti e tre i punti la relazione che è legata alla delibera e che diventa di fatto se andate a leggere il deliberato parte sostanziale della delibera si articola in tre parti una prima parte dove spiega quella che è la premessa i riferimenti normativi una seconda parte il punto B dove si prese le procedure le efficace il punto C vengono illustrati quelli che sono i contenuti della delibera e il punto D sono di fatto gli adempimenti e il punto cruciale poi diciamo è l'ultimo punto che riguarda poi l'individuazione degli ambiti e anche l'individuazione di quelli che sono gli edifici dismessi oppure gli ambiti da escludere dalla procedura di applicazione dell'articolo 8,1 di fatto l'articolo 8,1 cosa prevede prevede l'applicazione di quelli che con la legge 7 del 2017 che andava a dire che entro determinati si avevano determinati requisiti i piani semi interrati si avevano determinati requisiti di agibilità potevano diventare di fatto potevano essere diventare aree residenziali quindi non più superfici non residenziali venivano richiesti del rispetto di alcuni requisiti igienico-sanitari mentre viene data un'aderoga all'altezza cioè se l'altezza era anche 2,40 la stessa applicazione viene fatta se uno se un comune decide di applicare i presupposti dell'articolo 8,1 della legge 18 la stessa il presupposto viene traslato anche sui piani terra fermo restando un punto importante per cui la legge comunque stabilisce la legge del 18 che all'interno dei perimetri dei distretti del commercio o l'insediamento di nuovi resistizi di vicinato posti al piano terra di edifici esistenti con affaccio su spazio pubblico sono esclusi dal pagamento del contributo di costruzione e non comportano variazioni del fabbisogno di aree per servizi e attrezzature pubbliche di interesse pubblico cioè la legge dice se vuoi far sì che i piani terra esistenti che oggi non sono superfici residenziali ma che comunque rispettano certe norme igienico-sanitarie tu vuoi comunque passarli a aree residenziali puoi decidere se farlo o non farlo mentre non puoi comunque prescindere dal fatto che se uno volesse insediare un esercizio di vicinato su edifici posti al piano terra con affaccio sullo spazio pubblico questi qui non devi escluderli dal pagamento del contributo di costruzione e anche dal reperimento dell'area a parcheggio perché voi sapete quando voi andate insediare una a fare una trasformazione d'uso da residenziale a commerciale dovete pagare degli oneri in più perché i commerciali sono un po' più alti e poi comunque dovete reperire dalle aree a parcheggio la legge 18 per favorire l'insediamento di esercizi di vicinato nei centri urbani dice va bene questo qui lo decido io il comune deve lasciarli insediare questi edifici chiaramente se ci sono dei requisiti igienico-sanitari necessari e non deve fargli pagare quelli che sono i contributi per il cambio d'uso e nemmeno il reperimento dalle aree a parcheggio mentre noi dobbiamo deliberare se tutte quelle aree al pieno terra che oggigiorno non magari non rispettano appieno le caratteristiche che non sono stati realizzati come aree residenziali ma come superficie non residenziali se rispettano determinati requisiti igienico-sanitari possono diventare aree residenziali la proposta di fatto che noi facciamo diciamo che è poi riepilogata al punto I della relazione dell'architetto Lameri è quella di escludere tutte le zone urbanistiche del territorio del comune di Ponteranica dall'applicazione dell'articolo 8,1 della legge regionale 18 2019 ma questo perché perché di fatto la legge dice tu hai costruito come superficie non residenziale quindi non hai rispettato quei requisiti che sono richiesti per l'area residenziale quindi non so le aree a parcheggio piuttosto che altro soprattutto diciamo sostanzialmente questo le dotazioni a parcheggi non sono previste se io adesso te lo faccio diventare residenziale senza dover andare a recuperare le aree a parcheggio è chiaro che c'è qualcosa che non torna soprattutto all'interno di centri urbani come i nostri dove già la mancanza di parcheggi la sentiamo quindi sostanzialmente l'architetto Lameri fa questa proposta che accogliamo è quella di escludere tutte le zone se voi poi andate a leggere la relazione dice che per esempio per l'ambito residenziale rado di equilibrio ambientale che sono di fatto le zone collinari si applica l'esclusione perché per ragioni di salvaguardia ambientale per ragioni di difetto delle dotazioni a parcheggio perché il carico insidiativo aumenterebbe e mancano comunque le dotazioni a parcheggio il residenziale consolidato è l'ambito di riqualificazione di via Ramera che è tutta l'area centrale del paese tutta la via Valbona via 4 Novembre e la zona della Ramera per l'inadeguatezza delle infrastrutture per difetto di dotazione a parcheggi gli ambiti a volumetria definita di fatto e gli ambiti di trasformazione sono esclusi perché sono nuove costruzioni quindi mai più a una nuova costruzione già la deroga prima ancora che sono partiti a costruire e lo stesso negli ambiti soggetti a convenzione vigente cioè dove sono già stati rilasciati dei permessi di costruire o delle convenzioni quindi con delle determinate volumetrie non avrebbe senso concedere in deroga delle ulteriori volumetrie residenziali che non sono state di fatto né previste né nemmeno pagate e per ovvie ragioni questo vale anche negli ambiti produttivi dove la residenza è esclusa o comunque un servizio complementare quindi la proposta è questa qua per quanto riguarda quel punto il punto C del deliberato che è quindi di escludere si propone di escludere dall'amplicazione dell'articolo 8,1 tutte le zone urbanistiche del paese per quanto riguarda il secondo punto quindi l'individuazione degli immobili dismessi cosa dice la legge regionale dice che i comuni devono individuare con delibera di consiglio comunale tra l'altro questa è una cosa che bisogna fare annualmente quegli immobili di qualsiasi destinazione d'uso dismesse da oltre cinque anni che causano criticità per uno o più dei seguenti aspetti salute sicurezza idraulica problemi strutturali che ne pregiudicano la sicurezza inquinamento degrado ambientale e urbanistico edilizio in teoria lo stesso Comba stabilisce che questi edifici possono essere individuati anche senza delibera di consiglio comunale a patto che gli immobili che il proprietario presenti una perizia asseverata giurata che certifica la cessazione dell'attività e anche gli aspetti di criticità legati all'edificio cioè noi oggigiorno con la delibera potremmo andare a individuarli nel caso non ne individuassimo alcuni comunque un cittadino con una perizia giurata dove viene asseverato che l'edificio ha problemi di sicurezza criticità per quanto riguarda le rispette della sicurezza idraulica problemi strutturali e quant'altro può individuare come edificio dismesso di fatto noi abbiamo fatto una procedura noi abbiamo pubblicato un avviso sul sito comunale che è rimasto dal circa un mese affisso in comune e sull'albo pretorio dove chiunque voleva poteva presentare al comune la richiesta la motivazione per la quale chiedeva che un edificio venisse inserito come edificio dismesso perché questo è quello che prevede la legge 18 cioè dice devi dare pubblicità di questi interventi quindi e cosa succede quando un edificio viene individuato dismesso che entro tre anni deve essere presentata dalla individuazione entro tre anni il proprietario deve presentare un titolo abilitativo per la messa in sicurezza del fabbricato inoltre questi immobili usufruiscono di un incremento del 20% dei diritti edificatori stabiliti dal PGT o della superficie lorto resistente e sono esentati dall'obbligo di riperimento delle aree per servizi attrezzature pubbliche ad eccezione di quelle già individuate dallo strumento urbanistico ed obusto in base alla planificazione territoriale regionale è inoltre riconosciuto un ulteriore incremento del 5% della superficie lorto di pavimento per gli interventi che sicurano la superficie deimpermeabilizzata destinata a verde non inseriore all'incremento dell'SLP vedete la norma dice e poi va a elencare un'altra serie di incentivazioni che hanno e più però dice anche che se il proprietario entro tre anni non realizza gli interventi quel titolo abilitativo quelle opere che aveva proposto di fare allora interviene direttamente l'amministrazione con la demolizione o la sistemazione dell'edificio quindi vedete comunque che in primo luogo quando un edificio viene individuato come dismesso o degradato o che criticità la legge gli dà dei vantaggi perché c'è un incremento del 20% del diritto edificatorio un incremento dell'SLP se si fanno determinati interventi di impermeabilizzazione cioè se riduco la superficie impermeabilizzata e così altro però il proprietario ha anche il grosso obbligo di chiudere questo percorso di risanamento dell'edificio entro 5 anni dalla definizione dell'edificio come dismesso venendo a noi di fatto ad oggi durante il periodo di pubblicazione non sono arrivate nessuna richiesta di inserire edifici tra gli edifici dismessi che causano criticità da parte dei cittadini nemmeno dai rilievi fatti dall'ufficio tecnico sono emersi edifici che presentano criticità quali quelle elencate dalla legge 18 e quindi di fatto noi con questa delibera andremo a dire che non sono individuate anno 2021 non sono individuati all'interno del comune di Ponterranica edifici dismesse da oltre 5 anni che causano criticità o degrado venendo invece agli ambiti di rigenerazione urbana questo qui è un po' il cuore della delibera perché il cuore della delibera perché gli ambiti di rigenerazione urbana già non si parla più di immobili quindi di episodi isolati oppure di locali come era il primo che abbiamo visto quindi piccoli interventi all'interno del territorio ma qui si parla di ambiti quindi zone abbastanza estese di rigenerazione urbana cosa vuol dire vuol dire che la trasformazione vuol dire che sono aree che oggigiorno non sono sono urbanizzate ma non sono più utilizzate e che vanno rigenerate cioè gli va data nuova vita di fatto anche in questo caso la legge regionale 18 prevede degli sconti che principalmente si traducono in una riduzione dell'ionio di urbanizzazione qual è il percorso che abbiamo fatto noi in primo luogo abbiamo pubblicato l'avviso sul sito del comune dicendo anche ai cittadini guardate che stiamo facendo questo percorso se ritenete di avere un'area o individuate un'area che sia possibile un'area di rigenerazione urbana ditecelo comunicateci e diteci anche le previsioni che avete su quest'area di fatto non sono pervenute richieste e allora cosa abbiamo fatto insieme all'architetto Lameri abbiamo chiaramente analizzato il nostro PGT e siamo andati a individuare le aree di rigenerazione urbana in quelle previste all'interno del PGT perché va detto che a differenza di quello che succede per gli edifici dismessi dove sono anche previste delle deroghe a quelle che sono le destinazioni urbanistiche fissate dal PGT cioè nel caso che uno si va a individuare l'edificio dismesso non solo al diritto all'incremento del 20% ma anche al cambio di destinazione d'uso senza reperimento degli standard per quanto riguarda gli ambiti di rigenerazione urbana la legge 18 conferma quelle che sono le destinazioni d'uso cioè non va in deroga a quelle che sono le destinazioni d'uso previste dal PGT analizzando analizzando il nostro PGT abbiamo individuato cinque ambiti di rigenerazione urbana due sono ubicati all'interno del nucleo di antica formazione di Ponteranica Alta uno e altri due invece sono ambiti legati sono ex aree o artigianali o industriali quattro sì no scusa tre sono all'interno del tre nel nel nucleo di antica formazione di Ponteranica Alta e due sono ambiti uno ex artigianale e uno ex industriale di fatto le aree sono la prima grossa area anzi parto da quelle più piccole che sono quelle all'interno dei nuclei di antica formazione che abbiamo mutuato da quella che è la variante 1 al PGT che era andata a individuare nuove progetti riqualificativi principalmente tutti dentro il il nucleo di antica formazione di Ponteranica Alta che diciamo il nucleo di antica formazione è il centro storico più grosso del nostro territorio di fatto su nove perché ne abbiamo tirati fuori tre perché di fatto gli altri sei sono tutti progetti che sono già stati attivati e quindi non avrebbe più senso inserire nella rigenerazione urbana perché non devono rigenerare un bel nulla il primo è quello che si affaccia sulla via 4 non so se voi avete presente il territorio quello che si affaccia su via 4 novembre è che è un edificio che una volta era un edificio praticamente all'incrocio dove incomincia la via Leone 13 è un edificio dove sale la strettoio dove c'è la strettoio sulla sinistra della strettoio che sale dalla via 8 Marzo quell'edificio lì è previsto diciamo all'interno della la proposta che noi andiamo a fare siccome l'obiettivo del PGT era mantenerne e confermarne la destinazione residenziale ma al fine di incentivare quello che sono le previsioni dell'ambito in particolare demolizione e ricostruzione dell'edificio con allargamento della strada e quindi risoluzione di quel problema dell'incrocio quando uno sale da via 8 Marzo che si trova buttato in questa toia verso il via Leone 13 quindi se vengono riaggiunti gli obiettivi indicati dalla variante 1 del PGT quindi il miglioramento della mobilità allora si propone la riduzione del 60% tenete conto che il minimo previsto dalla legge è il 50% il 60% quindi un ulteriore 10% di riduzione del contributo di costruzione questo solo se vengono rispettati gli obiettivi della scheda di ambito legata al piano del nucleo di antica formazione di Ponteranica Alta per questo obiettivo il secondo intervento è quello che riguarda la riqualificazione di quello che è il complesso del Marengua Ponteranica Alta che è quell'edificio scusate il complesso residenziale che sta dietro la chiesa di Ponteranica Alta dietro il campanile avete presente che c'è tra l'altro un edificio storico a forma di quadrilatero ecco anche lì per il recupero di quel complesso immobiliare chiaramente conservandone quello che è l'impianto storico e valorizzandone anche l'impianto storico e architettonico anche qui viene stabilita una riduzione del 60% del contributo di costruzione 60% partendo voglio dire non dal 70% che abbiamo visto prima già ridotto del 70% ma si parte dal 100% viene ridotto del 60% l'altro progetto riqualificativo è l'edificio dell'ex Marengu quello che sta sotto la scuola Lotto è un edificio che è parte artigianale parte residenziale e anche per questo si propone una riduzione del 60% se vengono raggiunti gli obiettivi previsti dalla scheda dei nuclei d'antica formazione che in particolare prevedono la parziale riqualificazione conservandone per alcuni aspetti alcuna percentuale di destinazione artigianale commerciale un'altra percentuale trasformata in residenza con il riperimento dell'area parcheggi quindi una riqualificazione complessiva dell'intero immobile quindi se vengono rispettati gli obiettivi del PGT si propone la riduzione del 60% del corto di costruzione altro intervento è quello che riguarda il polo artigianale di Via Rigla per quanto riguarda il polo artigianale di Via Rigla la variante 2 al PGT ne conferma la destinazione produttiva e per gli edifici che oggigiorno risultano dismessi nel senso non tutti gli edifici all'interno del polo artigianale di Via Rigla sono dismessi sono solo quelli che stanno a monte della stradina privata che entra che stanno sulla sinistra sono dismessi ecco per quelli viene proposta aspettate che vado a prendere la riduzione un po' più complicata quindi le norme del piano prevedono il miglioramento dell'assetto stradale di Via Rigla e delle relative diramazioni quindi se loro fanno un progetto di qualificazione che ne conferma la destinazione artigianale migliorano l'assetto di Via Rigla quindi allargare la strada marciapiede e quant'altro riqualificare il patrimonio di giudizio esistente mantenere le attività produttive e riqualificare l'attuale contesto urbano con particolare riferimento agli aspetti di bonifica dell'amianto perché entrambi gli edifici hanno copertura in amianto regolamentazione dello scarico delle acque refle quindi deimpermeabilizzazione quindi risolvere il problema del fatto che tutte queste acque oggigiorno finiscono nella fungiatura comunale con i noti problemi che abbiamo di scarico in quelle aree contenimento consumo energetico e della commissione fra funzionale e fra attività produttiva e residenza beh questo non c'è più quindi di fatto se vengono rispettati questi obiettivi allora si propone una riduzione del 90% per quelli che sono il contributo di costruzione a questi viene aggiunto un ulteriore obiettivo che è quello del demolire tutti quegli edifici che sono all'interno della fascia di rispetto quindi oltre agli altri obiettivi che vi ho detto prima quindi mantenimento delle attività produttive riqualificazione della via rigla riqualificazione del contesto urbano bonifica amianto si chiede anche di recuperare quindi demolire tutti gli edifici che sono all'interno della fascia di rispetto si propone riduzione dell'80% del valore del contributo di costruzione e da ultimo l'area più complessa che è quella dell'attuale Gress voi sapete che lì noi abbiamo sottoscritto un protocollo di intesa con la proprietà la società Ingegner Sala col comune di Sorriso e col parco dei Colli affinché ci sia una progettazione unitaria di quell'area che trovi concordi oltre i due enti anche il parco dei Colli e così via gli obiettivi da raggiungere sono molteplici fra cui l'unitarietà della progettazione degli interventi previsti all'interno del compendio cioè ci deve essere una linearità tra quello che viene realizzato nella parte del compendio che sta in su Ponteranico e quello che sta su Risole un adeguato sistema di servizi pubblici e di spazi di uso pubblico la possibilità di traslazione dei volumi esistenti questo perché l'area di Ponteranica resta comunque a una volumetria eccessiva di fatto non viene rispettato a quello che è il minimo della superficie drenante cioè il volume praticamente l'area su Ponteranica è edificata praticamente quasi al 100% quindi si vorrebbe recuperare qualche spazio anche a verde o comunque deimpermeabilizzato la riduzione del volume della superficie esistente l'individuazione di recupero dei manufatti esistenti di interesse sono previste sono ammesse tutte le funzioni quindi residenziali ricettive terziarie produttive commerciali ed è esclusa la grande distribuzione risolve l'accessibilità dell'area soprattutto anche con quella cesura che è rappresentata oggi nella 470 la relazione con la T2 il collegamento tra la nuova area che verrà di regenerazione urbana quindi l'area dell'ex cres con l'abitato che sta a monte della 470 quindi in questo complesso di obiettivi per l'insediamento di quelle funzioni che abbiamo detto quindi per tutte le funzioni tranne come ripeto quella della grande distribuzione l'unica che non è ammessa mentre è ammessa la media distribuzione come è ammessa nel nostro PGT e anche in quella di Ponteranica ecco qui noi almeno io l'intenzione sarebbe quella di scostarci un attimo da quella che è la proposta dell'ufficio tecnico nel senso che loro prevedono la proposta che ci hanno fatto è questa per le funzioni residenziali risettive terziarie per le funzioni produttive oltre i 20.000 metri quadri una riduzione del 50% del contributo di costruzione mentre per le sole funzioni produttive una riduzione ulteriore per le superfici che vanno al di sotto dei 20.000 metri quadri fino ad arrivare addirittura alla riduzione del 90% del contributo di costruzione per le destinazioni produttive con superficie fino ai 5.000 metri quadri la proposta che noi sembra un po' forte questa proposta e preferiremmo limitarci alla minima riduzione possibile la minima riduzione indicata dalla normativa per tutte le destinazioni quindi dire che la riduzione del 50% del contributo di costruzione per tutte le funzioni insediabili all'interno del comparto quindi per le funzioni residenziali ricettive terziarie e produttive non più con limite fino ai 20.000 metri quadri quindi non andare ulteriormente questa riduzione questo perché perché sostanzialmente come ha ben detto bene prima sia il sindaco che l'assessore Ceruti gli investimenti o capitano dei contributi extra come è stato quest'anno per il Gal o per i 350.000 euro che ha messo a disposizione la regione Lombardia a seguito dell'emergenza Covid o altrimenti la nostra capacità di spesa si basa di circa 250.000 euro all'anno questo è l'intervento che noi abbiamo l'intervento più importante per il nostro territorio e quindi anche dal punto di vista dell'onerosità è quello che ci tra virgolette ci potrebbe consegnare quelle risorse per raggiungere obiettivi di mandato quale per esempio quello della realizzazione della palestra qui di fronte al municipio perché si parla complessivamente l'intervento potrebbe valere circa 2 milioni 2 milioni e mezzo di euro di oneri chiaramente il 50% vuol dire ridurli a 750 800 900 mila euro se li riduco ancora vuol dire che anche la nostra capacità diciamo di poter fare investimenti verrebbe fortemente compressa e poi teniamo conto anche che un operatore comunque che si affianca per un'opera del genere per un intervento del genere chiaramente mentre per noi cambia da 450 a 900 milioni di euro per l'operatore non è quello che fa è importante senz'altro nell'operazione il costo di quello sono gli oneri di urbanizzazione ma non è quello che vincola un'operazione del genere cioè gli oneri di urbanizzazione paradossalmente pesano di più su un'operazione piccola piuttosto che su un'operazione grossa e quindi per questo la proposta è quella di modificare quanto proposto dall'ufficio tecnico e non andare oltre per questo intervento la riduzione del 50% del contributo di costruzione per le funzioni residenziali insediabili all'interno dell'area dell'ex CRES perché per gli altri abbiamo proposto degli interventi accettiamo diciamo la proposta anche per esempio per il polo artigianale via Rigla addirittura l'80% ma di fatto perché riteniamo importante uno raggiungere quegli obiettivi che è riqualificazione di quell'area lì anche dal punto di vista viabilistico due perché di fatto sarebbe una ristrutturazione quindi anche gli oneri che vengono dati sono molto inferiori rispetto a quelli del GRES perché di fatto uno potrebbe mantenere gli edifici così come sono bonificare dall'amianto e provvedere alla diciamo non avrebbe comunque standard da reperire perché gli edifici sono già lì demolisce quegli edifici che sono all'interno della fascia di rispetto e quindi di fatto anche dal punto di vista oneroso l'intervento è più contenuto mentre per gli altri tre edifici all'interno del centro storico andrebbero comunque a ridare vita a migliorare le condizioni di vivibilità del centro storico uno perché avete visto l'edificio lì dietro la la chiesa è stato anche recentemente oggetto di un piccolo crollo causa di un piccolo smottamento causa delle recenti piogge l'altro risolverebbe il problema dell'accesso con via 8 marzo e il terzo diciamo quella specie di si può dire cadavere chiaramente darebbe un miglior aspetto all'ingresso nel centro storico di Ponterranica alta e ci sta anche la riduzione del 60% di questi oneri perché comunque sono i valori sono più contenuti rispetto a quelli che è un'area gressa e anche gli interventi diciamo sono più piccoli più facilmente attivabili e comunque il diciamo il miglioramento della vivibilità del centro storico sarebbe elevato andando a fare questi tre interventi quindi ecco per quello magari su questi qui abbiamo posto una maggiore attenzione e quindi proponiamo e accettiamo la proposta dell'ufficio tecnico di incentivarli con una maggiore riduzione del contributo di costruzione mentre saremo molto più prudenti sull'area dell'ex cres grazie anche perché aggiungo se quattro dei cinque interventi descritti mantengono sostanzialmente l'assetto urbanistico esistente quindi con le destinazioni già insediate è chiaro che quando parliamo dell'area gressa da un lato c'è la volontà manifestata con il fatto di averla inserita nell'ambito di rigenerazione urbana di far decollare questa operazione e quindi con un incentivo economico consistente dall'altra però va contemperata con l'esigenza del fatto che si tratta di un'area di fatto da urbanizzare ex novo perché lì cambierà sostanzialmente l'assetto urbanistico di un comparto che perde la sua destinazione originaria e si trasforma in qualcos'altro con quindi la necessità di ridotare il tutto di servizi e strutture adeguate a supporto delle nuove attività che andranno insediate quindi c'è da operare questo contemperamento tra la volontà di incentivare agevolare il recupero dell'area dall'altro dall'altro lato quella inevitabile di garantirsi un flusso di cassa che permetta sì nuovi investimenti ma anche di operare in sito gli interventi di urbanizzazione che necessariamente saranno necessari però adesso per a beneficio dei lavori del Consiglio ti chiederei magari di riepilogare l'emendamento per come viene proposto così lo mettiamo in discussione poi e voti adesso chiedo al perché di fatto chiedo anche al segretario perché di fatto noi qua andiamo a modificare la relazione allegata e redata dal professionista allegata alla delibera quindi l'intervento va cioè quindi lo aggiungo sul deliberato la modifica è sostanzialmente per l'ambito dell'ex gres al fine di incentivare la realizzazione degli interventi previsti dal PGT e dal protocollo di intese e anche al fine del consolidamento di una significativa presenza produttiva no basta viene tolto tutto vengono stabilite le seguenti riduzioni sul valore del contributo di costruzione per le funzioni residenziali ricettive terziari e produttive riduzione del 50% ambito 1 ex gres solo 1 resta la riduzione funzione residenziale ricettive terziari e funzioni produttive riduzione del 50% del contributo di costruzione basta resta solo questa perché lì prevedeva prima diceva per le funzioni produttive riduzione del 90% per una previsione fino a 5.000 metri quadri di SLP riduzione dell'80% per una parte per una parte di porto la posizione produttiva produttiva di produttiva di produttiva No, anche per le produttive. Tutte le funzioni agevolate al 50%, basta. Ecco, mi premeva che fosse chiaro, soprattutto per i consiglieri che devono andare a votare. Il sistema previgente, o comunque la relazione iniziale, prevedeva dei coefficienti di riduzione differenziati dal 90% a scendere, 80-70, in funzione delle diverse funzioni che potevano insediarsi all'interno dell'area Gresh. Ovviamente tra quelle già previste dal PGT. L'emendamento dice no, non prevediamo delle riduzioni così significative dal 90% a scendere, ma per tutte le funzioni che possono insediarsi all'interno del Gresh, una liquota secca del 50% di riduzione per tutti. Quindi è sufficientemente chiaro? Ok, perfetto. Quindi, dichiaro aperta la discussione su questo emendamento. Se ci sono dichiarazioni di voto, e quindi la votazione, chi è favorevole all'approvazione dell'emendamento per come illustrato? Unanimità. Ritorniamo adesso in seno alla discussione sulla delibera nella sua complessità, perché complessa è complessa, perché, come si è detto, prevede diverse tipologie di intervento. Prima di rilasciare la parola all'assessore Cremaschi, chiederei anche per interrompere il flusso di comunicazioni, se c'è qualche domanda, approfondimento, richiesta. Prego. Consigliere Cornacchi. Perché secondo me andrebbe fatto un ulteriore emendamento, perché il deliberato dice di approvare la relazione. Quindi dovremmo dare atto nel deliberato. Sì, non andiamo a correggere la relazione, non possiamo correggere il documento di un'altra persona. Nel deliberato si darà atto di questa forma. Ok. Sì, è una domanda perché mi è sfuggito prima, non sono stato tanto attento. Allora, le tre destinazioni d'uso sui tre abitati Ponte Ranicata, perché non è che li conosco molto bene. Ho avuto modo di vedere la corte citata precedentemente, un mese fa, ed è molto bella. Però, quali sono le destinazioni d'uso e sono tutte al 60%? Cioè, immagino che due, quelle tra via 8 marzo, 29 e 13esimo, a tutte residenziali, anche quella al Marengù, che io pensavo fosse produttivo. Cioè, non produttivo, ma... Il Marengù può anche essere... Devo fare o presentare un piano di recupero, che può prevedere anche altre destinazioni residenziali, come commerciale. Cioè, non c'è nemmeno scritto quale debba essere la percentuale di uno dell'altro. Al Marengù, mentre per gli altri sono tutti residenziali. Ah, ok, gli altri due solamente residenziali. Ok, basta. Eh, no, è questo che volevo capire. Quella cosa che abbiamo detto prima, comunque, che è sempre previsto l'esercizio, cioè, sempre autorizzato l'esercizio di vicinato. All'interno del centro storico, siccome tutti si affacciano sulla pubblica via, possono comunque sempre fare esercizi di vicinato. Ci sono altri interventi. Passerei, quindi, alle dichiarazioni di voto sull'impianto generale della delibera, così come illustrata. E quindi, alla votazione, chi è favorevole all'approvazione della delibera relativa agli adempimenti previsti dalla legge regionale 18 del 2019? Unanimità. Passiamo, quindi, alla trattazione del successivo punto iscritto all'ordine del giorno. Approvazione della convenzione di adesione alla rete bibliotecaria bergamasca. E lascio la parola all'assessore Gamba. Grazie. Allora, quella che andiamo ad approvare questa sera è la convenzione per far parte, appunto, della rete bibliotecaria bergamasca, che non è la convenzione, invece, che abbiamo, appunto, approvato di recente per la gestione della biblioteca. Che ricordo, la gestione della nostra biblioteca è una gestione esternalizzata e la facciamo unicamente con il nostro sistema bibliotecario, che è quello del nord-ovest. Per quanto riguarda la rete bibliotecaria, faccio un piccolo passo indietro per ricordare quelle che sono state le tappe storiche, diciamo, che ci hanno portato a questa tipologia di convenzione. Da quando sono nate le rete bibliotecarie, quindi più o meno agli inizi del 2000, quella che era la gestione, quindi la catalogazione dei libri, piuttosto che la gestione dell'interprestito e di tutti quelli che erano i software di comunicazione, era onere della provincia. Dopo il 2013, la provincia non ha più gestito questo, diciamo, questo servizio. Quindi è diventato onere, invece, di quelli che sono i sistemi, i cinque sistemi bibliotecari della provincia stessa, più il stesso sistema che, invece, è quello di Bergamo. Da questo momento, quindi, si è fatta una, diciamo, convenzione molto più leggera, transitoria, ma le due convenzioni erano staccate, in quanto la parte urbana, quindi, di Bergamo, anche per la sua complessità, perché ricordo che a Bergamo non vengono gestite solamente le biblioteche, ma anche i musei e tutti quelli che sono le documentazioni e gli archivi di tipo storico. Quindi Bergamo aveva il suo sistema di interprestito, che era totalmente slegato, invece, da quelli che erano gli altri sistemi bibliotecari. Con questa nuova convenzione, noi stiamo arrivando all'integrazione sia della rete urbana che dell'interprestito provinciale. Per quanto riguarda la governance, diciamo, delle reti bibliotecarie, la governance è su due livelli. Una parte che è la parte politica, dove abbiamo il presidente, il vicepresidente, il consiglio dei presidenti e il consiglio dei sindaci. Invece c'è una parte molto più tecnica, che è formata dalla gestione della rete bibliotecaria, la gestione dei sistemi bibliotecari e i comitati tecnici e i responsabili delle varie attività e dei vari settori. Questa è fondamentalmente la struttura che noi abbiamo. Ogni sistema, ricordo che quelli al di fuori della rete urbana sono cinque, ha delle proprie attività da promuovere. Vi faccio un esempio. Per quanto riguarda il nostro sistema bibliotecario, a noi spetta, ad esempio, la promozione della lettura per l'area giovani e per l'area bambini. Ad esempio, quello della Valseriana, invece, è adibito alla promozione della lettura per quanto riguarda l'area adulti. C'è la parte che, o i sistemi che invece si occupano più della logistica. Quindi ognuno ha varie funzioni, vari obiettivi e varie finalità. Quella che noi abbiamo, diciamo, la prima convenzione che si è creata è stata la convenzione promossa dal 2014 al 2019, con il 2020, con una proroga, con una convenzione ponte. E questa proroga è servita per l'appunto a cercare di unire la rete urbana a quella che invece era la rete provinciale. Per quanto riguarda l'onere che tutti i comuni hanno, soprattutto per l'approvvigionamento libri, storicamente era di un euro per ogni abitante. Questa era la parte per l'approvvigionamento libri, è sempre stato quello. Per quanto invece riguarda quelli che sono i servizi di interprestito e catalogazione inizialmente erano di 0,08 euro più 0,34 ad abitante, per quanto riguarda sia la gestione e supporto alla gestione del proprio sistema bibliotecario, più catalogazione, interprestito, archiviazione, eccetera. Questo sarà anche l'importo che noi avremo per il prossimo anno. Dal momento che comunque era una sottostima di quelli che dovevano essere i costi, dal 2022 al 2023 verrà aumentato quindi 0,08 più 0,42, quindi il costo della gestione ad abitanti sarà di 0,50. Quindi quelle che sono le grosse novità rispetto alla precedente sono l'integrazione con la rete urbana, il fatto che durante l'epidemia i sistemi hanno soprattutto evidenziato un aumento delle richieste per quanto riguarda My Library, quindi la parte di biblioteca digitale per quanto riguarda gli e-book. Quindi si è deciso che il 10% che è l'importo che i vari comuni daranno verrà adibito appunto a potenziare quest'area. Un altro potenziamento che verrà fatto, cioè con potenziamento del 20%, sarà invece dell'interprestito a livello medio per quanto riguarda tutto il sistema bibliotecario. E poi uno degli obiettivi che ci si propone ancora con la rete è quello di andare ad integrare tutte le varie attività che usufruiscono, per cui i nostri sistemi bibliotecari usufruiscono, anche l'integrazione con gli enti culturali presenti sul territorio. Quindi queste fondamentalmente sono le misure, diciamo le novità che abbiamo all'interno della nuova convenzione. Non sarà più una convenzione di sei anni, anche per dare la possibilità a Bergamo e vedere Bergamo come riesce ad integrarsi, perché noi al momento stiamo usando Clavit, che è il database utilizzato appunto per l'interprestito, Bergamo ne usa un altro, ma Bergamo ha anche, come l'Angelo Mai, delle biblioteche piuttosto importanti, abbastanza complesse da integrare. E poi successivamente vedremo se questa integrazione con gli enti culturali funzionerà o meno. Quindi questa convenzione avrà fine alla fine del 2023. Direi che con questo ho finito. Grazie, Assessore Gamba. Dichiaro aperta la discussione. Se non ci sono interventi, passerei a dichiarazione di voto se ce ne sono. E quindi alla votazione, chi è favorevole all'approvazione della convenzione a rete bibliotecaria bergamasca, così come illustrata? Unanimità. Per l'immediata esecutività? Unanimità. Passiamo quindi a successivo punto all'ordine del giorno. Mozione presentata dal gruppo consigliare Progetto Ponteranica, protocollo numero 10923 del 25-11-2020 in merito all'accesso ai parchi giochi comunali. Prego, Consigliere Corrado, se la vuole leggere. Grazie. Premesso che un nostro concittadino ha inoltrato a tutti noi consiglieri comunali una foto di un cartello riportante la frase Ponteranica Comune Nemico dei Bambini, affisso da qualche passante in uno dei parchi giochi presenti sul territorio comunale a seguito della sospensione alle attività ludiche concessa dall'attuale amministrazione. È premesso che la foto risale ad una settimana prima dell'ultimo DPCM vigente, stipulato e pubblicato in data 4 novembre 2020, e pertanto inviataci prima della designazione della zona rossa per tutta la Regione Lombardia. Appurato che il sopraccitato DPCM vigente non vieta l'accesso ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici, previo rispetto del divieto di assembramento e della distanza di sicurezza, è considerato che, diversamente da quanto sostenuto dall'attuale amministrazione e successivamente ribadito dall'assessore Pini durante la Commissione Politica Educativa del 16 novembre 2020, la scelta di attuare tale sospensione, sostenendo che il Comune non possa garantire la corretta sanificazione dei giochi negli spazi dei parchi, invitando gli stessi genitori a provarci ad assumersene la responsabilità, contrasta con la realtà quotidiana di un Comune in cui panchine, tasti dei semafori, corrimano di scale ponticelli, aree di fermate bus non vengono ovviamente igienizzate. E infine, considerato che l'attuale amministrazione ha sempre dedicato ampio spazio ai nostri cittadini appartenenti all'età dell'infanzia. Per tutto questo esposto, il Consiglio Comunale impegna il Sindaco al termine dell'attuale ordinanza a valutare l'annullamento di tale divieto o, interpellando anche gli assessori proposti, elaborare ed esporre delle reali alternative, ludico-formative, da sottoporre ai nostri bambini, che più di tutti soffrono le limitazioni imposte dal Governo nazionale e che pertanto necessitano di maggiori attenzioni. Sul punto, l'ordinanza in questione è già stata revocata ormai una settimana fa, una decina di giorni fa, forse anche di più, in occasione del fatto che in quel momento si era diventati di zona gialla. Il problema, ho comunque preferito che se ne parlasse per inquadrare la questione nello specifico, nel senso che ovviamente, come sapete, l'ordinanza in questione non vietava tanto l'accesso ai parchi che sono sempre rimasti aperti, quanto piuttosto l'utilizzo delle aree gioco poste all'interno dei parchi. E questo essenzialmente per due motivi. Uno è senz'altro quello citato, ovvero che le linee guida impongono delle sanificazioni ricorrenti di questi giochi che nell'atto pratico non sono fattibili, quantomeno non dal comune di Ponderanica. Ma il secondo tema che personalmente ritengo più decisivo è che mi sembrava paradossale che in un momento in cui sia nella scuola dell'infanzia che nelle scuole elementari, per non parlare delle scuole medie, ma lì siamo già si riferiamo a una fascia di età diversa, utilizzano un protocollo estremamente rigido per evitare i contatti tra i bambini che non appartengono alla stessa bolla, chiamiamola così, di utenti. Mi sembrava paradossale che poi questo sforzo potesse essere vanificato dal fatto che gli stessi bambini e gli stessi genitori poi una volta usciti dall'asilo o dalla scuola potessero mischiarsi in modalità così anche ravvicinata all'interno delle aree del gioco perché era questa la realtà che avevamo riscontrato. Quindi da un lato una difficoltà oggettiva di sanificare i giochi dall'altro disincentivare un comportamento che se da un certo punto di vista è naturale e auspicabile ed è quello che tutti vorremmo dall'altra però contrastava con gli sforzi che su tutta l'altra linea delle agenzie educative che si stanno spendendo sul territorio stanno portando avanti cioè consentire che i bambini possano fare giocare piuttosto che fare le loro attività ma mantenendo sempre delle bolle passatemi il termine di contatti ben circoscritti e che si evitano situazioni di commistione sappiamo che questo obiettivo non è sempre perseguibile perché comunque ci sono dei momenti in cui questi scambi avvengono però ecco che soprattutto nella stagione autunnale perché l'ordinanza si riferisce a quel momento storico i nostri parchi fossero un po' presi d'assalto e che queste norme non fossero così rispettate a mio nostro avviso richiedeva un intervento deciso in questa direzione fermo il fatto che tuttora ad esempio è vietato l'utilizzo dei campi da gioco all'interno dei parchi campi da calcio eccetera proprio perché si vuole evitare insomma questo effetto di contatti ravvicinati per cui se per certi versi capisco le istanze anche dei genitori che poi sono manifestate in questi cartelli dall'altro lato ritengo che ci siano dei diritti alla salute essenzialmente che vanno preservati anche per non vanificare gli sforzi che si stanno facendo in tutte le altre agenzie educative in tutte le agenzie educative del territorio per contemperare le esigenze di educazione e ricreativa dei bambini con quelle sanitarie aggiungo e chiudo anche perché abbiamo la fortuna di non vivere nel centro di Milano dove effettivamente queste aree possono costituire l'unico luogo di svago ricreativo per i bambini viviamo in un comune dove il verde gli spazi verdi sono assolutamente accessibili e quindi se in questo momento che speriamo di poter superare a breve di criticità ci si dirotta verso verso altri spazi all'aperto senza concentrarsi nei parchi giochi secondo me è auspicabile e preferibile insomma per cui questo era un po' il senso dell'intervento ripeto adesso non so neanche quanto abbia senso per il momento storico portare alla votazione questa mozione perché l'ordinanza di cui lei chiedeva la rimozione nel frattempo è già stata superata per via dell'evolversi della favorevole fino adesso dell'emergenza epidemiologica non so cosa sarà ne sarà per il futuro però ci tenevo che ci potessimo confrontare perché almeno per mettere in evidenza quali fossero gli aspetti che ripeto non sono solo quello pratico e materiale di come sanifico i giochi che è già di per sé un bel problemone perché di fatto non è gestibile e anche se lo fosse richiederebbe che dopo ogni bambino che scenda allo scivolo qualcuno sia lì a pulire ma di fatto è cercare di fare in modo che non ci siano concentrazioni di bambini provenienti da bolle diverse ripeto ripassatemi il termine concentrati in luoghi così ben definiti e contingentati piuttosto che 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 usufruire del verde pubblico in una modalità anche diversa mi permetto di aggiungere due considerazioni innanzitutto sottoscrivo quanto ho appunto detto dal sindaco sin adesso vorrevo soprattutto dire che mi sento molto tranquilla di non aver tolto il diritto al gioco a questi bambini anzi sarebbe stato un gioco difficile cioè una sanificazione così ricorrente il fatto che comunque dover mantenere le distanze tra uno e l'altro perché appunto tra il non fare assembramento il mantenere le distanze diventava una sofferenza ed è stata anche la scelta era stata fatta però diciamo condivisa con tutte le agenzie educative del territorio per cui sia con le scuole dell'infanzia che con la tag smutri che con nido in famiglia proprio per cui è nato anche il percorso che poi abbiamo fatto crescere insieme dove c'era tutta una parte sull'essere esploratori e quindi indicare ai bambini come poter giocare ai bambini e ai genitori quindi come poter giocare nel nostro territorio che veramente siamo fortunati senza dover utilizzare un gioco precostituito per cui uno scivolo un'altalena o quello che è che sarebbe stata veramente una fonte di disagio e questo è stato proprio condiviso con le agenzie educative inoltre come è stato citato dalla mozione abbiamo anche interpellato i genitori cioè i genitori che appunto si erano agitati appena visti perché chiaramente facevano anche impressioni i giochi chiusi li abbiamo appunto convocati per capire come poter fare assieme un qualcosa per cui ci siamo detti vediamo se questa primavera cosa succederà di fare anche un patto praticamente di corresponsabilità con le famiglie in modo eventualmente di utilizzare i giochi però ecco il messaggio che effettivamente è molto più semplice molto più naturale ed educativo per i bambini giocare all'interno del prato del parco oppure andare a farsi una passeggiata in un bosco ecco su questo l'abbiamo proprio condiviso e siamo unanimi consigliere a lei la scelta nel senso che le alternative essenzialmente sono due o ritira l'interpellanza ma non perché non sia fondata nel merito ma perché a mio avviso è superata per quello nel senso che il provvedimento di cui lei chiede la revoca non esiste più altrimenti semplicemente lo votiamo mi dica lei come procedere io volevo solo aggiungere che si è parlato soprattutto lei l'ha detto sindaco di diritto alla salute e ha assolutamente ragione in questo dobbiamo però ricordare e io parlo con cognizione di causa che anche la salute di determinati bambini deriva da determinate libertà ovviamente il periodo storico nel quale viviamo queste libertà ce le toglie c'è anche da dire che ci sono condizioni di salute di determinati bambini non adolescenti bambini che necessitano hanno bisogno veramente di sfogare le energie ma non solo anche solo rapportarsi con gli altri perché penso che sia chiarissimo ci sono situazioni in cui questo lockdown non ha provocato solo qualche disagio ma ha provocato davvero una regressione grave per determinati bambini che stavano facendo un percorso e che è stato interrotto non solo a livello scolastico ma anche a livello sociale di socialità quindi veramente spererei che si potesse trovare una soluzione che non sia necessariamente spingere queste famiglie a farsi la passeggiata nel bosco o a far giocare i bambini nel prato ma che si possano trovare delle reali alternative a quella che può essere la socializzazione che ci può essere intorno a dei giochi perché anche solo una mamma che per quei 20 minuti dopo la scuola perché magari non ha un solo figlio si confronta con altre mamme mentre i bambini corrono si sfogano si arrampicano è fondamentale quindi troviamo queste alternative e usiamole anche per i genitori ma soprattutto per questi bambini che devono socializzare per quanto riguarda la votazione bisognerebbe vedere l'evolversi della situazione se devo essere come lei stesso dice votiamola la mozione impegna il consiglio comunale a chiedere al sindaco di valutare l'annullamento di tale divieto o interpellando anche gli assessori preposti di elaborare e esporre delle aree alternative ludico-formative da sottoporre ai nostri bambini che più di tutti soffrono le limitazioni imposte dal governo nazionale e che pertanto necessitano maggiori attenzioni contrari nella logica che ci siamo penso chiariti non so se prego consigliere allora è oggetto richiesta di delucidazioni inerente inerente a servizio sgombero neve trattamento del ghiaccio sul territorio comunale premesso che il centro funzionale monitoraggio rischi naturali della regione lombardia a partire dalla tarda serata di domenica 27 dicembre e per tutta la mattinata di lunedì 28 dicembre aveva previsto un consistente fenomeno di precipitazioni nevose che avrebbe interessato anche la provincia di Bergamo emettendo un'allerta di colore arancione che corrisponde ad un livello di criticità moderato rilevato inoltre che nella nota esplicativa all'allerta sopitata si specificava che le precipitazioni a carattere nevoso si sarebbero materializzate al suolo nel territorio di Ponterranica con accumuli dai 20 ai 30 centimetri e che di conseguenza l'ente di monitoraggio chiedeva ai sistemi locali di attivare una fase operativa di attenzione preallarme con azione di sorveglianza e monitoraggio costante tale da essere pronto all'attivazione di azioni di contrasto evidenziato che l'amministrazione comunale di Ponterranica rappresentata dal sindaco avvocato Nevola incaricata di tutelare l'inconlumità pubblica non poteva ignorare la comunicazione di allerta ricevuta dal centro regionale preposto preso atto che nella mattinata di lunedì 28 dicembre la pressoché totalità della rete viabilistica comunale risultava essere impraticabile a causa della neve accumulata e non sgomberata come d'altronde ci si sarebbe tutti aspettati da parte di un'amministrazione impegnata nel regolare svolgimento dell'attività di governo del territorio altresì increduli nel dover constatare di persona che fino alle ore 17 la maggior parte dei cittadini di Ponterranica non ha potuto osservare il passaggio di un mezzo spazzaneve sulle strade comunali e che contrariamente da quanto affermato dal sindaco cioè che si sarebbero privilegiate prima le arterie di comunicazione interne per poi passare alle vie secondarie alle ore 15 ben 4 ore dopo il termine della nevicata via Valbona via principale di collegamento era purtroppo ancora impraticabile considerato che martedì 29 dicembre ancora moltissime vie non erano state interessate dallo spazzamento neve a titolo esemplificativo si riportano le vie segnalate dai cittadini via delle rovere via concordia via matteotti via cornella via primo maggio via della quisa via gozzi via ponte secco via maresana via boel via dete salvolupi via pasinetti ed infine caso emblematico in via gaspare gozzi questa mattina 30 dicembre 2020 nessun mezzo ha liberato la strada fino alle ore 11 sono stati inoltre segnalati diversi incidenti stradali dovuti alla presenza abbondante di neve sulle carreggiate citandole sono solo alcuni l'intrappolamento di un pullman atb in via leone tredicesimo un'auto della quale il conducente ha perso il controllo che ha ostruito il passaggio alla rotatoria di via valbona un altro mezzo fuori controllo in via madonna del carmine ed altri automobili ancora impantanati in molte altre vie prevedibilmente tutto ciò ha comportato importanti disagi per la totalità dei cittadini di ponteranica che si sono trovati costretti nelle loro abitazioni impossibilitati a raggiungere i luoghi di lavoro a raggiungere i propri cari più bisognosi o a raggiungere strutture ospedaliere senza che ciò non fosse impedito dalla incredibile condizione delle vie di comunicazione comunali l'inefficienza del servizio sgombero neve proposto a noi sfortunati abitanti della cittadina amministrata e rappresentata dal sindaco Nevola è risultata palese esponendo la cittadinanza ad una serie di pericoli piuttosto rilevanti per tutto quanto sopresposto il gruppo consigliare progetto ponteranica interroga e contestualmente interpella il signor sindaco se si fossero presentate urgenze di cure mediche indifferibili tali da dover richiedere l'intervento di mezzi di soccorso il povero paziente come avrebbe potuto assicurarsi l'intervento medico necessario a salvagli la vita chi si sarebbe assunto la gravosa responsabilità di un epilogo funesto causato dall'impossibilità di essere raggiunto dai mezzi di soccorso è stato previsto in questi casi un piano di emergenza per i cittadini con gravi patologie mediche per quale motivo i mezzi spargisali nella serata di domenica 27 dicembre hanno escluso quelle che non erano le vie più ripide ma certamente sono le principali permettendo in questo modo l'immediato attecchimento delle precipitazioni nevose per quale motivo si è scelto di far uscire i mezzi spazzaneve solo alle ore 6 del mattino di lunedì 28 dicembre quando ormai la nevicata era in corso da più di 6 ore perdendo così tempo prezioso e lasciando nel frattempo che la neve si depositasse in maggior misura a chi spettava e perché non sono stati assunti provvedimenti urgenti correttivi nel corso della nottata o della giornata al fine di uno sgombero efficace delle strade valuta soddisfacente il piano neve concordato all'ufficio tecnico determinazione numero 155 2019 del settore tecnico emesso in capo dalla ditta giudicataria del servizio di sgombero neve e trattamento ghiaccio sul territorio comunale nelle giornate di domenica 27 e lunedì 28 dicembre riscontro errori omissioni o gravi mancanze nell'attuazione del piano neve nelle giornate di domenica 27 e lunedì 28 dicembre ovvero nell'esecuzione dello sgombero neve da parte della ditta giudicataria del servizio signor sindaco poiché il risultato complessivo non solo non è stato citandola testualmente forse eccezionale ma è stato certamente disastroso con gravi risvolti pratici a discapito della popolazione di ponteranica con la presente interrogazione urgente contestuale interpellanza si ritiene doveroso far luce sulla pessima gestione della recente emergenza neve grazie sì mi riservo ovviamente grazie se non la consenne di darvi risposta scritta nei termini posso aggiungere visto che siamo alcuni dati che sono incontestabili nel senso che per quanto riguarda lo spargimento del sale che è stato fatto la domenica la notte della domenica rispetto al lunedì il dato è che anche nelle strade dove ovviamente era stata data la priorità alle strade più ripide anche dove è stato posato il sale con 40 centimetri di neve e con quelle temperature il sale non ha portato assolutamente alcun beneficio nel senso che la neve ha attaccato in ugual misura sia dove il sale era stato posizionato sia dove il sale non era stato posizionato dopodiché signori bisogna intenderci qui sono scesi 40 centimetri forse anche qualcosina di più in mezza giornata la ditta a cui abbiamo appaltato gli interventi ma guardando la cronaca della provincia di Bergamo vedo che la situazione è un po' la medesima per tutti a disposizione tre mezzi che sono stati poi integrati dai mezzi comunali su un territorio come il nostro con una quantità di neve concentrata in così poco tempo il risultato è questo qui nel senso che tra un giro e l'altro molte delle strade che lei ha citato e che anche a me sono state dove si dice non siamo mai passati eccetera eccetera in realtà la realtà vera cos'è? che ci sono stati dei passaggi ma che tra un passaggio e l'altro visto che la nevicata era copiosa si è ricreato un accumulo di neve dopodiché c'è tutto un altro macro tema della neve dove la metto nel senso che se il mezzo interviene per spostare la neve in una strada e a me ne abbiamo molte strette con accessi carrali su entrambi i lati purtroppo la neve non può essere mangiata va accumulata ai bordi strada per cui ci sono state diverse lamentele di gente che ha avuto gli accessi carrali chiusi dalla neve legittime comprensibili ma non so immaginare come avrebbero potuto operare diversamente gli operatori faccio un'altra digressione dalla nostra esperienza perché abbiamo fatto la gara per l'appalto della neve l'anno scorso non c'è la fila di operatori che vogliono fare questo servizio perché perché è un lavoro rognoso che non vuol fare più nessuno le ditte specializzate e nella provincia di Bergamo sono molto poche perché gli eventi nevosi sono sporadici vengono precettate essenzialmente dalla grande distribuzione quindi supermercati piuttosto che grossi centri gli operatori che rimangono accessibili sono divaisti agricoltori piuttosto che piccole piccole imprese che non hanno a disposizione un set di 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 mezzi infinito garantiscono l'operatività sul territorio di tre quattro mezzi che è la dotazione che anche noi abbiamo abbiamo opzionato questa dotazione senz'altro va bene nel caso di precipitazioni nevose nella norma quando ci sono precipitazioni passatemi il termine eccezionali quantomeno avendo a riferimento gli ultimi dieci anni di storia è chiaro che dei disagi ci sono specie quando poi i pullman decidono di circolare nonostante tutto e quindi dobbiamo perdere una mattina solo per liberare quattro cinque pullman che si incagliano perché non hanno montato le gomme giuste eccetera eccetera quindi voglio dire sono situazioni eccezionali a cui si è fatto fronte io posso dire che alle sette di sera del lunedì abitando adesso la maresana tutte le strade erano percorribili poi qualcuna messa meno peggio di altre meno scusate meglio di altre però la viabilità era garantita su tutto il territorio comunale alle sette del lunedì sera nei giorni successivi compreso oggi si è lavorato sul residuo quindi sui parcheggi sui marciapiedi sarà un lavoro che andrà avanti ancora per diversi giorni perché per riuscire a pulire simultaneamente i chilometri di marciapiede che abbiamo sul territorio comunale servirebbe una forza lavoro di duecento persone cosa di cui non disponiamo per cui progressivamente anzi devo dire anche con la protezione civile abbiamo elaborato un piano neve che ha funzionato la priorità cos'è? Garantire l'accesso al comune alla farmacia ai servizi essenziali e progressivamente con centri concentrici allargare il raggio di azione e pulire le zone via via che si allontanano dal centro però adesso sicuramente questi operatori sono anche nuovi del territorio a differenza del 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 Turani che era di qui per cui certe piccole vie non le conoscevano sono rimaste indietro che il sistema sia perfettibile lo sottoscrivo che ci siano ampi margini di miglioramento senz'altro ma francamente non vedo non ho visto questa situazione di gravissima di gravissimo disagio poi chiaro bisogna capire dove si fissa il livello dell'aspettativa se a fronte di 40 cm di neve ci si attende che nel giro di 2-3 ore sia tutto perfettamente pulito lo dico non siamo in grado di garantirlo anche ripeto perché sul mercato non c'è non ci sono operatori che oggi siano in grado di garantire questo tipo di opzione e leggendo la cronaca dei comuni mimitrofi chi più chi meno mi sembra che il livello delle prestazioni sia stato grosso modo il medesimo per non parlare della provincia che ha avuto altri tipi di difficoltà però dal mio osservatorio quello che vedo è questo che per la rarità di questi eventi non ci sono operatori che si sono formati e specializzati sull'emergenza neve perché è antieconomico dovrebbero tenere fermi dei mezzi esclusivamente per questi eventi sporadici e oggi non lo fa nessuno per cui molti operatori per policy addirittura evitano di fare servizio neve chi lo fa sono questi piccoli outsider che si reinventano in occasione degli eventi nevosi con tutti i limiti che questo sistema comporta ovvero che la dotazione di mezzi è relativa e che bisogna avere un minimo di pazienza lo ribadisco alle 7 del lunedì sera la viabilità era garantita in tutto il comune si poteva fare meglio in tante piccole zone senza altro però direi che grosso modo a mio avviso abbiamo garantito uno standard accettabile ripeto non ottimo ma accettabile comunque i dettagli poi riceverete scritti grazie direi che la seduta è conclusa ne approfitto per augurare tutti voi buon anno visto che siamo prossimi nella scadenza e arrivederci al prossimo grazie grazie